Perché gli sviluppatori non lo sanno quindi abbiamo saperlo noi giustamente Ma mi hanno rubato boh penso ho 75 stream Sì Sì Secondo voi viene anche messo il DLC tipo Oh shit Siamo a Napoli ed è già capodanno Siamo a Napoli Ho sentito Napoli L'unica cosa importante è questa Questo è un mio amico però è ubriaco palese Ragazzi ma il suono di Among Us Bene E' ritornato l'arabo E' tornato l'undici novembre Ma era il coso di Amogus Ma prendete le due suoni veri Suoni originali Niente già tutti scontenti Io comunque ancora non vedo in tutto ciò C'è lo scienziato Come non vedo E' venuto Io ho lo schermo nero Ma come c'è ancora schermo Io c'ho schermo nero aiuto Oh cristo La vendetta per la spartita scacchi su Pandora 2 Ragazzi sento un freno a mano Oddio Cosa cazzo Ma dove? Mi sto disibernando Vabbè Oh fuck Sium Adesso vedi Ora vedo Non ho visto nulla prima Però è stato molto bello immagino Oddio Sono rimasto qui Voglio uscire Voglio uscire Oddio quanta gente Ma no la skin del dover è diventata sette volte più figa E c'è una donna al canto di ha paure Tranquilli sono un dottore Ragazzi vogliamo già fare il test Speriamo a rompere il vetro La signora Giaccia è una due Pandora che non si trova dei vestiti però eh Se tutto è fatto bene allora non succede niente Tengo freddo Tengo freddo Beh allora non è successo niente effettivamente No no allora io non me la Non fate nulla raga Non fate nulla per favore Io non romperò niente Vedo che questo freddino le ha lasciato una brutta broncopolmonite No no è l'AIDS Ancora tremolanti alcuni Ancora ancora tremolanti Beh cazzo sono stati freddi In ghiacciaia per un mese Ah sì sì Ma state ancora tremando Ma sei tornato muscoloso Chad Hai visto? Ma ti sei riallenato Il pezzo di legno qua Ah è quello di Tekken Mokujin Quindi lo picchiamo Ti sentiamo Sì ha detto di sì Un blocco di legno Ha detto di sì Un blocco di legno Un blocco di legno Ma è quello che ci vende razzi Oddio oddio Per il capodanno Sono io piacere Grande Grande Eh beh giustamente il suo paese sia più caldo Non è abituato a queste temperature Eh qua molto freddo Porca di legno Eh sì 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 E fa nuoto eh Non mi ricordo i tasti però Abbiamo catturato No C'è un pesce nuovo nell'acquario Cosa? Esci dall'acquario per favore Aiuto Ma basta Ma se muoio cosa succede? Andiamo andiamo Te lo devo spiegare Come risali? Il pelato Il pelato Il pelato Il pelato Oh Oh Io sono svenuto Che è successo? L'escursione termica Ah Aiuto Tu sei un pezzo di legno Lui è Mokujin Klui Tekken Guarda Preso Li mettilo dentro Li mettilo dentro Ai 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 pelati Mi picchiano Certo che lo so Fai silenzio Fai uscire tutti C'è il corpo di Notre Dame Capo No ragazzi Ho preso il fungo C'ho già i funghi per la minestra Scusa Scusa Ci sono un sacco di cose Che non sapete Seguite Quasimodo Quasimodo Seguiamolo E' tutto passo Questo Mi scusi Mi scusi Allora Prima mi sono espresso male Mi fa piacere che lei sappia Dove siamo Ce lo potrebbe dire Anche Ti ho detto che so Aia E' bravi Non picchiatevi Avrete tempo per picchiarvi l'un l'altro Scusi Scusi E' un ciliegio Ma mareno Questo albero Ho detto Fate silenzio Concederò una domanda A uno di voi Uno per volta Mettetevi in fila indiana Da sinistra a destra Spero che voi sapiate Qual è la sinistra E io li ammazzo a tutti Vi rimetto nelle vostre celle Ma non c'hanno arrestato Ascoltate Ascoltate E' molto importante Voi Siete qui Perché dovete ripopolare Il mondo che Ha fatto una financia Sesso Va bene Dove sono le donne Si fa sesso Adesso c'è C'è carenza di donne Però qua C'è carenza di donne Elvio Spiegalo tu per favore Che io questi li ammazzuti Li rimetto tutti dentro Sesso piedi Elvio Fate silenzio Elvio Ha una cosa molto importante Si Ma mi serve il traduttore Ma paro napoletano Scusi Qualcuno ha qualche obiezione Io ho capito tutto Ora che Elvio È stato così esplicativo Se ci sono domande Tenetele per voi Avete capito Sì o no Ma io mi sono messi in fila No Ma scusi Non ho ancora capito Perché dobbiamo fare la fila No No La fila serve solo perché Se non state in fila Io è il pazzisco Aiutatemi Beh non è che siamo messi bene Allora Se abbiamo una destinazione Dobbiamo andare da qualche parte O questo è il nostro Stazione mare Andiamo Che picchiano Picchiate Se dobbiamo scopare Tutti quanti qua All'ombra di quest'albero Sì Io sono timida Quello era uno fugo Ti lesco A casa A casa Non pensavo che sarebbero stati Negli sputassi questi qua Allora Fermi Perché sei tutto storto Chi è storto Tu Ma cosa ti è successo Tano Io non sono storto Questa è la mia forma Ma come l'ordi Non potete sapere Cosa ho vissuto Tutto questo tempo qua Sottoterra Per controllare voi E la vostra Vita Che rimanesse in colume Per tutto questo tempo Voi non sapete quello che è successo Non sapete quello che io e io abbiamo visto È chiaro? Quindi cercate di comportarvi bene Perché si è occupato di voi Tutto questo tempo Che cazzo Che cazzo È molto È molto È questo antivorno È molto È molto È molto È molto Scusi Stavo un attimo a ballare Cominciamo a ripopolare Si sdrai Si sdrai Si sdrai Con lo sputacchio viene meglio Con lo sputacchio Aspetta Con lo sputacchio Viene meglio Non fate spazzate Ma è uguale Che cazzo ha detto che è uguale Razzisti di merda Scusi Quasimodo Quasimodo Tengo fame Ma l'ho fatto Ciao Io ho fame Io Io ecco Ho fame Nutritevi No Ma me l'hanno Datevi il cibo Datevi il cibo Ma l'ho preso Dammi la bagnotta Io voglio fare Io voglio fare Mi scusi Mi scusi Avvocato Ragioniere E quindi Allora Lei ha parlato di ripopolare Ma perché dobbiamo farlo Tipo da sottoterra Di sopravvivere Di sopravvivere Cosa c'è in superficie? Adesso La domanda più spaventosa di tutte È proprio questa Cosa c'è in superficie? Non so se siete pronti Per scoprirlo Posso lavorare in laboratorio? Secondo me c'è un stripper in superficie Solo io e Elvio Lavoriamo al laboratorio Voi fate il vostro Di laboratorio È chiaro? Minecraft Scusi c'è un napoletano Che si arrampica Sull'albero di Trenore Non vedi che sono calabrese? Ed è ben poco Mi dica Mancano solo i rami Se parlo mi senti? Ora si Ma per lo spettacolo Ragazzi adesso facciamo sul serio Fate si legge Solo un minuto Fate si legge Solo un minuto E poi vi darò La possibilità di vedere La luce del sole Dovete ascoltarmi Ma noi siamo Ma che è sta buzza di piedi raga? Allora Dovete sapere Che questo prima Era un mondo ricco E popolato Ma una forza malefica Si è impossessata Di questo luogo Elon Musk Lips Esatto Voi siete La grandissima forza maligna Pimps E adesso voi Io? Siete i pochi superstiti E dovete Andare in superficie E riconquistare Il mondo Sesso piedi? Ok Ma non dobbiamo ripopolarlo Sesso piedi Dobbiamo fare sesso all'aperto Conquistarlo Sporcarlo Potete fare quello che volete Sesso all'aperto Ha senso Ha tutto senso raga Tutto senso Allora Chi ha l'involcro Maginario Ma è tutto normale Non è possibile Comunicare con voi Non ce la fanno Ma l'anziano percepisce la pensione Allora Percepisce tutto quello che gli sta intorno Porta rispetto Porta rispetto Qualcuno ha detto Porta rispetto Adesso Vi mostrerò come raggiungere la superficie Vai vai La seguiamo La seguiamo Seguite il gobo Era il covid Sputacchio miciale Qual è la scala giusta? Dobbiamo andare su Il più grande errore della mia vita Una cazzo di scala Almeno una scala Via via Ma se premo Ma sapete veramente la mamma lavandata Chiedo de scusa Io voglio tearless Oddio che è sta pompa Cominciamo bene Un cazzo non vedo un cazzo Non vedo un cazzo Ma questo è l'araboe qua Oh pompa maradona No ma fa culo Ma che cazzo non è stato Che è morto Ah è tear Easy Grazie ragazzi Grazie gentilissimi Ma era Minecraft Non Fortnite Ascoltatemi Ascoltate Che mondo di merda Venite dove mi mostro Dove ricostruire il mondo Leo Ma era Minecraft Non Fortnite Ci sono gli schiavi volanti Ah no ma sono degli uccelli Che schifo Che bel buco del culo Eh eh Stanno andando da questa Non so perché Andiamo Seguiamoli 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 Ma quello si è Ma quello si chiama Palesemente Ugo No Ah va bene Questo è palesemente il signor Ugo Salve Ugo Non gli sputi Che schifo Ugo Mi fai schifo Ma scusa Andiamo a un po' volando C'è Ugo Ma infatti c'è Ugo Ma Ugo palugo It's a bucket Un cam bucket Perché quando No che schifo Tier Non era il ristorante Di No non era il ristorante Si chiamava Scornare a scendere la nostra vita Sacrifichiamo il pane Alla lava Veramente Che carini Ah no 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 professore 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 Il professore è diventato Ussidiana Hai finito la loro Ma sta ancora Stai bruciando No è vivo È vivo È vivo Tiratelo fuori È privano Ragazzi Ragazzi Ho tenuto Le migliori Di quelle di parlare Oh è vivo Le scomole No Non termina Già Resta il professore Ma chi ha basso il professore Niente Ho Non c'è più rispetto per l'educazione Ma È volato qualcosa Ho un cartello Gli uccelli Sputata gli uccelli Sputata Che cazzo Sputata gli uccelli Con lo sputacchi L'uccello Possiamo utilizzare la bicicletta Non lo posso dire Dove c'è la bicicletta Non c'è il professore Che ti dice Non puoi usarla Ah stupido Hai un po' come un player Posso sputarci sopra Scavo solo il diamante Tearless Raptor Ma io non pensavo che lo sputo Facesse così tanto danno Ma fa malissimo Dove è tornato Sputateli Sputateli Mamma mia Comunque la sanità italiana È fenomenale Io credo che sia arrivato il momento Di spiegare tutto Per la seconda volta Che schifo i professori Grazie Grazie Come delle persone normali Adesso Inventare un nuovo Un nuovo modo di insultare Porca ma... Fate silenzio È molto importante Si esprimi Ehi Datemi il podio È comunque la loro migliore Di quella di Pandora 3 Cos'è Pandora 3? Di già? Niente Si esprimi Mi dichi Allora Ascoltate Ascoltate seriamente questa volta Fate i bravi Non sputate E non colpite Poi potete fare quello che volete Ragazzi Dovete sapere Che qui c'è stata Una grandissima forza maligna Che ha colpito questa terra E infatti Siamo protetti da delle mura Che non riuscite a vedere Perché sono un po' lontani Ma siamo protetti da delle mura Vabbè facciamo finta che ci siano No no ci sono Sennò che non le vedi Ci sono Ma non sono tanto Emozionante Sono lontani le mura Sono come le mura di Luca Comics Se non ci vedete Seguite Mi faccio vedere Seguiamo È molto importante Ma quindi siamo a Luca Quello è agnostico Coglione Dobbiamo collaborare gioiosamente Vabbè adesso non ho mica detto il calendario Perché non te lo so Luca Comics No hai detto Luca Comics È Luca Comics and Games 2023 È questa la strada Per la move Power by Arcadia Che ne so io Se non siete Sala Canova Sala Canova Ma smettiti Scusi ma mia madre cosa Oh c'è già il carbone Qualcuna ha del cibo Ma poi scusi scienziato Se le mura sono tutte attorno La strada è sempre giusta no Dovrei Eccole 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 Orco Orco porco Non è importante essere furbi Quanto sopravvivere E essere dei grandi amici Dobbiamo essere dei grandi amici Allora Ascoltate Il grano Il grano Il grano Il grano I bastoni Dovete sapere che qui c'è stata una grande forza maligna Che ha attaccato questa terra Ce l'ha detto sette volte E poi Ma come si chiama la forza maligna Come si chiama la forza maligna E' l'inps E' veramente l'inps Invece di commentare Vedete di fare silenzio Maledizione Allora Una grande forza maligna Ok Grazie Grazie E voi che siete solo un branco di disgraziati Siete i pochi sopravvissuti alla guerra All'attacco Alla distruzione di massa Che c'è stata Prima Fa senso che vi picchiate E vi sputate l'un l'altro Perché ognuno Giolli Cooperation Quindi Fate silenzio Ma è diventato È diventato pollo Si 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 Evolve Oh Che voce bro Ma ti hai fatto spaventare Ma siete fuori di testa Che jumpscare Ma vabbè ma c'è casi per un episodio Che dovete Sono grande e forza maligna Adesso Vi mettete in fila un'altra volta E vi presentate E dite il vostro nome come dei bravi Io ti ammazzo Io adesso ti ammazzo No No E poi la faccio mangiare con gli amici Hai capito? No Voglio sapere Io sono Tiroless Uno per volta Uno per volta Io sono Tiroless Inizio io No 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 Italiani Fatemi Oh Leo Vabbè allora A posto A posto Scendo allora Ascoltate Voglio che vi mettiate tutti alla mia sinistra Va avanti Tutti alla mia sinistra Di qua Di qua Su Vieni maialino Vieni Ok adesso Uno per volta Andate a destra E dite il vostro nome Vai Ma quale sinistra Io sono Fango17 E comandante della TaviCraft Bravo vai mettetela Mettiti qua Bravo Vick Sono Vick Ciao belli Vai Vick Brava brava Vick Anche al prossimo Presentatevi Io sono Chesi Sono pulito da un anno e quattro mesi Qui ci sarà solo per due episodi Poi non lo vediamo più Sto già male Non mi uccidere Molto probabilmente Elvio ti ha pulito Avanti al prossimo Che palle sto pelato Esatto Tu Ti sei Presentati Tu e il tuo maialino Allora Noi siamo Sergio e Gianni Piacere Non picchiare il mio maiale Potrebbe essere tua madre Io ragazzi sono Lollovagusta Sto male Ho un cuore Sto male No mi hai ruoto il pane Mi hai ruoto il pane No è il mio Vedi No dammi Dammi il pane Per favore Spamare Vengo gli altri bambini Chi è il prossimo Ok prego Grazie Soltano Scequentano Tano Soltano Eh ma questo Quando l'abbiamo preso Qua che sputo incredibile Minchia Bravissimo Vatti al prossimo Inizio a farmarti Un uomo di poche parole Grande Ti può salire sulle mura Cos'è questo? Piacere Melvio che cos'è? C'avevo un sacco di te Ossicino 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 Mi intendo di mura Ma non so cosa siano Va bene Che è il prossimo Io sono molto Ho paura di stare qui Ok Va bene Muso Mettiti insieme agli altri bambini Ti metto quattro Piacere Mi chiamo Emerald Anche se c'è qualcuno Che vi sta sulle palle Me lo dite Ce lo fico dentro Bella Va bene Bravo E anche tu Siciliano Di soltano Come me E io sono E ho capito Giusto No Vabbè Venite su Twitch Ma sei quello della birra Barba Quello della birra È lui E vai Avanti il prossimo Leo ma lui era Berrofronzo Prima le persone nude Non è Berrofronzo Non è Berrofronzo Non è che hai fatto di sedie Ragge S 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 Aspetta io mi sono dimenticato Una cosa per la mia presentazione Scuratier Posso fare una cosa veloce Vai vai Sempre da solita Pandora Mostra e ti mostra Che sta succedendo Auguri Non so come spogliarmi Dov'è la skin Mi si è venuto Mi si è venuto Sono rimasto Chiuso nella cella S S S eltate E S Ha lavorato Ha lavorato Ha 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 L'ha Rattato Alla È Basta Non ci credo Ragazzi Questa è una metafora del razzismo Cerito 하고 questa Fondana Fonda Sono nudo Sanno tutti chi sei, Tearless! Grazie, grazie. Grazie, mo' un ghiacciolo. No, no! Aiuto, il vecchio ci insegue! No! 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 Aiuto! No! Che cosa sta succedendo? Raga! Aiutatemi, ho parcheggio tutto mio! Che succede? Ma quella crisi! Ciao sedia! Buonasera, vieni qua, stai qua con me! Eh, stanno interrogando! No! Mi ha colpito! No! Adesso sapete che quando parlo io, se non vi comportate bene, posso uccidervi! Questa è una metafora della dittatura! Ho un parcheggio tutto mio! Che devo premere? Che devo premere? Control! Oh! Leo, no! Mi sei sbagliato il bottone! Signor Muso! Oh di c***o! Mi segui un secondo di là che devo fare una domanda! Che succede? Allora, io penso che le mura possono essere scalate! Che succede? Che succede? Sanno chi è magro? Ma perché mi mettete sempre... BASTA! Non ci arriva fino all'altro! Venite la gita sulle mure ragazzi! Venite! Arriviamo, arriviamo! Andare ragazzi, le dobbiamo andare, bambini! Ho fame, ho fame! Ho 43 pezzi di pane! Ma come è successo? Dove sono andati gli altri? Eh niente, sono già perso! Vabbè, prendiamo il cavallo con noi! Perfetto! È la prima puntata? Sì, ma ci siamo già persi! Ecco! Marcus! Andiamo! Comunque questi sono i partecipanti ragazzi! Mi potete ben vedere! Fate uno screenshot! Fate la clip! Quel che vi pare! E basta! Ho la se... Incredible! Grazie a me l'ho detto! Non me l'ho reso con... Ok! È la madonna! Sono arrivato! E c'è un casino davanti e non ha capito una... Eh sì, credo che sia... Pandora a quanto pare! Ok! Molto interessante! Ah poveraci! Siete poveri! Che schifo! Oh! Guarda che si chiama... Si chiama inflazione! Fate schifo! Tu! Noi siamo i nuovi arrivati quindi siamo poveri in sedia! Ma è veramente amoroso che la gente riesca a rompere il gioco tipo a dieci minuti dall'entrata! Ti giuro hai la stessa voce di berropronzo! Ma sei sicuro? Te lo giuro! Esatto! È proprio così! Ma stai citando il padre nostro! Aspetta! Rage! Rage! Mi chiamo Rage! Vado a chiamarvelo! Signor Rage! Rabbia! La cercano quei gentili signori! Ho chiamato Rage! Per favore! Vic la guerriera! Ma che ha fatto? Il professore! Eh allora vi do un consiglio! Ma abbiamo cercato di scalare le mura! Ma a quanto pare la forza maligna non vuole che andiamo oltre le mura! Eh la forza maligna mi ha fatto cadere giù! Ma pensa te! Perché tu sei incredibile! È pericolosissimo! Io vi consiglio di tornare al pozzo della lava! E di cominciare a costruire la civiltà che ci darà la possibilità di resistere ai attacchi della forza maligna! Tra il ferro e il fuoco! Ma com'è fatta questa forza maligna? Ce la descriva professore! È molto forte e molto maligna! Sì ma com'è costituita? È costituita da forze maligne! Lei è morto comunque! Cabbè! Come ha fatto Leo? Io non capisco! Ne abbiamo persi parecchi in realtà! E non so dove sono finiti! E stanno già facendo effetto! Non vi preoccupate! Rimarremo comunque tutti all'interno delle mura! Quindi non c'è possibilità che qualcuno si perda! Che bello! Sì ma professore! Lei ha ammazzato il mio amico! Non è stato un incidente! L'ho fatto apposta! Professore ma di che colore è la forza maligna? Ah ok! Di che colore è la forza maligna professore! La forza maligna è il colore della forza! Per un attimo ho fatto preoccupare! Che colore è la forza! Mi riprendo la camera! Sei stato... Chi è stato? Le celle come? Oceano di che? Le celle che c'è? Eh! Ecco! Questa è una fonte di calore! Ci aiuterà a sopravvivere durante l'inverno! E che estate è adesso? E' estate adesso professore! E' sacrificare quello... No! No! E' stato piacevole! Ma non c'è bisogno di riprenderlo! Professore che stagione è? E' la stagione del male! Oh una bussola! E quanto è distante dall'inverno? Troppo poco! Oh cavoli! Quindi la cosa migliore è iniziare a costruire qualcosa che ci possa permettere di creare... Vabbè lo creeremo professore non si preoccupi! Esatto! C'è più stanti quindi tu basta risettare un attimo! Guarda! Oh grazie! Molte grazie! Quindi... Ecco ragazzi! Ora che sapete qual è la situazione... Dovete sapere che... Non sappiamo quando la forza maligna arriverà! E la cosa migliore è essere preparati! Quindi dovete... Ho vinto! Vole approvare l'esperienza del professore anche lei! Ma che stagione? Ma che stagione? No! Ma perché col fuoco non si spegne sputando? Io ci ho provato... Aspetta ti spengo io! Accidenti! Aspetta per sempre ragazzi! Aspetta per sempre! Come potete vedere... La pozza del fuoco ci ridà la vita! Ed è per questo che dobbiamo rimanere nei dintorni! Perché è qui che dobbiamo erigere il nuovo aboglio! Ma in che senso ci ridà la vita? Che se ti lanciati dentro! Eeeeeeeh! Fa malissimo! E' solo che lo fai per la prima volta! E ricorda che... Eccolo! E' tornato! E' tornato! E' stato incredibile! Com'è andato? Bellissimo! Che è successo? Credo che sia solo un semplicissimo effetto collaterale! E' un po' asceso! Comparatevi perché potrebbe succedere anche a voi! Nessuno sa cosa ci aspetta in questo mondo! C'era un uomo? C'era un uomo? Un uovo! Un uovo? Un uovo di che animale professore? Eeeeeeeh! Eeeeeh! Eeeeeh! No! Non l'ho visto! E' un inizio! E' un inizio! E' un inizio! E' un inizio! Ragazzi! Il mio consiglio! E' quello di iniziare a costruire una sorta di base! Una sorta di... Sapete no? Un edificio che possa contenerci tutti quanti! Per iniziare! E' essere brutta! E' essere brutta! E' avere la forza del male! Qual è la forza del male? Ma perché in questi anni non l'hai fatto tu? Perché dovevo controllare i vostri stati vitali! E' perché non... Non è semplice portare avanti la vita! E' perché non ci ha scongelato prima professore? Evvidentemente era questo il momento... Elvio perché non l'abbiamo fatto prima eh? Ecco... Elvio è totalmente inutile professore! Ci penso io di dargli la vita eh! Professore ma... Ma per tutto... Allora... Avete capire che... Non mi chiamo professore! Il mio nome è Franconio de Franconi! Franconio? Sì! Esatto! No vai caldo! L'accento andava lì! No! Posso chiamarti... Posso chiamarti... Sta qui vicino! Fra! Vieni con me! Fra! Cosa? Fra! 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 Cosa vi mostrei? Io sono già più veloce come vedi sono un essere superiore! Premi... Premi il tasto... la freccetta quella su... sotto l'invio! L'hai fatta? Eh... Sì! Questa cavalca... Tolliti? Per... Albinico da me? Premi G? Come G? E che te si cambia? Uuuuuh! Dio... Ma no va ma tu hai inventato il fischio! Non pensavo! Eeeh... Incredibile! C'è... Eeeh... Shhh... Interessante questa! Piccadelo! Cappo non pensavo! Piccadelo! 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 Raghi! Raghi! Guarda! Guarda qua! Marcos vieni qua! Eeeh... Bravo Marcos! Bravo! Guarda come scodinzola! Aaaah... Ma gli hai fatto catcalling? Assolutamente sì! Assolutamente sì! Come faccio con tua madre? Sto portando scusa! Ma... No niente! Volevo fare un buco! Ahahahah... No! Eeeh... 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 Gino! Non è... Non è vero! Ha rubato! Ragazzi ha rubato! Ha lavato! Non è vero! 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 Brugia! 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 Ragazzi! Brug! Brugia! Brugia! Non si ruba Marcos. Non ho niente! Non ho niente! Non ho niente! Nu l'adro! Cosa? Non ho niente! Tira su! Control! Ok, non ti fidare, non ti fidare, non ti fidare, ho fatto niente io, fermi, presto a buttarmi a terra, sputateli addosso, ascoltate, seguitemi, seguitelo assenziato, dov'è il mio loot, dov'è il mio loot che non l'avevo rubato, Leo, ma si sente il mio fischio? Sì, 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 senti, sì, senti, è mio il cavallo, si può rubare, il mio loot che non l'avevo rubato, prego, se vuoi montarlo, un girettino, prego, prego, ah no, ti devi, scusami, ah, sì, eh no, ogni tanto, anche io ogni tanto lo faccio, ma lui è abituato, è abituato, ma tutto quel tempo c'è la frigorifera, mi ha un po', capito? Assolutamente, bisogna riscaldarsi adesso, basta, sono stanco di camminare, Ah, non l'hai più lo te? Il concetto poi è costruito, viene a casa vicino a centro, dove c'è la pozza di lava, la pozza di lava, grazie, è il centro, ma c'è già una città costruita, per quale motivo dovremmo costruire un'altra, guardatela, sembra molto accogliente, guarda cosa c'è! Ma è una formica! Che fighi, che stiloso! È un formicaio! Ma cosa si può fare con le formiche? Hanno un drop, le formiche Vabbè Allora, io volevo aspettare Buonasera Eeeeee Eeeeee Ah, che bel cavallo, bro, incredibile! Puoi farli fare i? Gli faccio catcalling, guardate! Ecco! Wow! Bravo, Marcus! Così si fa La forza di linea, le mura e il resto Sì, sì, sì Vogliamo fare una casa? Eh, almeno un minimo, butterei giù Servirebbero proprio dei muratori per fare una casa Servono le case di bergamastri, le bergafene State introdusciando la loro Se solo ci fossero dei muratori da queste parti Tu, tu mi sembri adatto a fare il muratore Io sono un pezzo di legno, è difficile che posso fare il muratore È perfetto, ci servono i pezzi di legno Io posso fare il laterizio Ci sta Ma legno lamellare o legno massello? Allora, io posso essere quello che vuoi Allora, così mi sembra legno lamellare più che altro Ti ringrazio, ti ringrazio Lei, ho fatto il bastone dentro Puoi provare sulle mura? Puoi provare ad andarci se vuoi Andiamo, andiamo, andiamo Andiamo, andiamo Andiamo C'è uno scogliattolo, picchiatelo! No, è violenza contro gli animali Picchiatelo più forte È morto Ma com'è morto il tuo cavallo? Aspetta, Marcus! È già morto il cavallo! Oh, shit! Il cavallo è qua, non se ne va da me Non sei un muratore, sei un mago Complimenti Andrei a prendere il legno Tutti i muratori hanno un cavallo, lo sapevi? Sto arrivando, Leo, sto arrivando Veramente? È certo, è ora che ti trovi il tuo Se non può essere un vero muratore Ti ringrazio, adesso lo cerco Quello non è un cavallo Riesco anche a prendere un pollo, oddio santo Ci sono le formiche, forse ti va meglio con quelle Grazie Che schifo, sono enormi Scusi, signor legno Mi può portare con lei? Posso salire? Non so come Non si può Niente muratori? No, sono salito anch'io No, 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 glielo lascio Glielo lascio Ecco Io non farò Comunque, che bel fischio Hai visto? Una volta lo facevano le donne Poi si sono estrate No, Fra, no No Allora La famosa chiamata del ghiatto Allora, sedia Adesso noi Allora, sedia Tu devi andare a fare un po' di legna da quella parte lì Vado a fare la legna, va bene Vai a picchiare i tuoi fratelli C'è uno che ti assomiglia là C'è uno qua che ha la tua stessa skin Mi posso... Guardami Sono io? Non sono io? Sono io? Non sono io? Sì Sono io? Non sono io? È veramente incredibile Wow Devo dire Avremo i sussidi statali grazie a lui Sì No, Fra, non è vero No, no Aiuto Oh, che sta succedendo? Ma io ignoro Non ho visto nulla Io passo Io passo Mi dispiace Berro Ognuno pensi a sé Ok No, dobbiamo prendere il legno Ma quindi vogliamo rubare una casa di qualcun altro? Vogliamo fare la no... C'è una chest Si potrebbe rubare No, vabbè, il loot, la lore Le ossa rotte Le stringhe Incredibile Wow Ora sono un guerriero con l'accetta Uga buga Sì Uno di guerra Allora, dobbiamo ripopolare il posto Leo Abbassati Leo ha la vagina, quindi Rattimo, sto guardando la chat Di cosa stai parlando? Di che cosa stai parlando? Leo è pazzo È pazzo Vede le cose Che spazzo Vabbè Quindi Ma si può andare in noi sul cavallo? Eh, purtroppo no Se ci fosse un sistema per trasportarvi Sarebbe tutto più bello Mi si sente? Sì, sì Ti sentiamo Ok, perfetto, perfetto Ho bindato il tasto Possiamo lasciare gli alberi in aria Allora, vi regalo questo Questo Non lasciare gli alberi in aria Non sei parrins Io faccio quello che voglio Sono rovazzi Non sei parrins No, sono rovazzi Sedia, sedia, sedia Eh, dimmi Guarda, guarda Guardami Non seguo il tuo canale Lo seguo Pala Peccati questo Non t'azzarda Ah, scusa Hai il cavallo, perdonami Non sapevo avessi il potere del cavallo Per picchiarmi Io ho il potere Scusami Allora Dammi tutti i tuoi soldi Oh, fra, ma tu hai un'arma da fuoco Fermati, 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 fermati Dami i tuoi soldi Oh, ho là Io ho l'acqua No, no, io ho l'acqua Va bene Posso darti Ho l'acqua L'acqua, perfetto Perfetto Ora siamo amici È un debito C'è un bucone qua sotto Com'è un debito, scusami È appena pagato una tangente Ok Leo, Leo Dobbiamo costruire qualcosa Vogliamo fare la casa dentro a questo buco Mi piacciono i buchi Ci sta, capo Potresti ripeterlo lentamente Leo? Leo Leo Andato Leo è cascato giù È vivo, è vivo È vivo Ti tiro l'acqua Sali Attenta all'orso Aspetta per sicurezza No, ma tanto Marcus mi segue Il mio cavallo è bravissimo Hai visto, eh? Mi guarda Eh, ho visto Ma l'è destrata per bene Ma io direi Sì, sì Ci sono le funghette allucinogeni Ho usato la tecnica che uso con le donne Questa cosa Dove è andato, Leo? Dove sei? Sono qua Questa qua Ah, capisco Gaming Visto? Non può staccarsi da me Incredibile Bravo Marcus Beh Dove è andato alla casa? Raga, ma la mafia è normale su Pandora? Certo Sì, sì C'è sempre stata Sempre ci sarà È tutto normale Assolutamente sì Sì, sì, sì Allora, stai attento Qualcuno ha un secchio d'acqua? Io, capo? Presto Una secchiata d'acqua qua Scendiamo Era mio quel secchio Ah, sono caduto Attenzioni Stupido, stupido Ma qualcuno ha messo l'impalcatore C'è un napoletano C'è un napoletano Picchialo, picchialo Ok, beccati questo Ma non perché è di Napoli, ragazzi Cioè Ci sono i funghetti droga Ci sono i funghi droga Cosa te lo fa pensare? È pieno qua in giro Guarda i funghi droga È viola questo funghetto Sono i funghi verdi Guarda quando lo Io ne ho uno viola, guarda Quando lo piatti va Ma si può mangiare? Piattolo Ma sedia? Capo qua sotto Grande fungo Sedia 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 sparito Devo ringraziare i sub Sono dei falliti Che schifo Guarda quanti funghi ci sono O forse si possono fare zuppe C'è del boschio Vabbè Vediamo Vediamo Vedo già una carenza di Di come si dice Materia prima Ah comunque ragazzi Grazie Alex Pro Enzo Laura Marco Gigachad Erlansia Riccardo Zeppelin Toby Plank Samu Haile Porraccio Dmos Aime Captain Beppe Alsh Nothing Black Dottor Lasagna Neobaldo Lorzeref Daddy Wampos Vlash Vedi Jots Vincent T-Scoop Tommaso TNT Lorenzo Warly Darkfox 4990 Myrt Crocs Sento tipo Giovanni Storti Ragazzi Grazie Hyoplea Molto gentile Grazie Tisopai Scherfi Sgravati Better Call Casanova Mattia Sonic Amistra Marco Zank Fabio Falco Gamer San Gennaro Giapponese Giulio Litte Daniele D.I.Benz RackTord Un pazzo sgravato Raga io non so che dire Grazie ai soldi Li spenderò su Pandora Giova grazie anche a te del sub Lei è molto gentile Allora Nuova season di Pandora La prima cosa da fare Serve trovare un po' di ferro Ma almeno per tipo Farmi un secchio Capito Non è che Esigo più di tanto Non mi dispiacerebbe Farmi un bel secchiello E oggi si è fatto milioni Più o meno Magari ragazzi Magari Magari Oltretutto Fammi dare un'occhiata Che siamo anche in live Non soltanto su Twitch Ma anche su un'altra Bellissima piattaforma Tutto molto bello Ok Ricordo che potete abbonarvi Gratis con Amazon Prime Qua su Twitch O pagando 3,99 Su entrambe le piattaforme Sono le bellissime Ho messo la emot Fieric Maresciallo Se volete spammarla Ovviamente non so A livello di lore Cosa farò Mi piacerebbe fare tipo Il muratore Fieric ma perché il muratore Ma perché il muratore Io ho fatto il muratore In passato Non so chi di voi lo sa Quando andavo a scuola 16, 17, 18 anni Ho fatto per 3 stati di fila Il muratore Ebbene sì Quindi Per C'è uno con lights C'è uno con lights Oddio Ok C'è il pusher Porca miseria È vero Aspettate Chiamo gli altri Non posso ingaggiare da solo È rischioso Inghaggiare da solo Spostare le mod Purtroppo non sono private Oh del ferro Ma come Ma io voglio capire Perché salto così Raga che faccio Ci provo Ma poi quello Mi sdruma È pacifico Ah ma lui Tradda Ma non è un tizio A picchiare Ho capito Ragazzi Si fa Scorpacciata di funghi Qua Ok Voglio vedere Se con questi funghi Poi ci devi fare qualcosa Perché io non so A cosa servono Magari ti fai tipo una pozione Pozione nel senso Ma questo è altro ferro Mi sa Questo è il rame C'è un pipistrello viola Ti vende i funghi allucinogene E penso anch'io Voglio capire come si fanno però Allora Vediamo un po' Crafting table Vediamo un po' Se mi da Eh allora Allora Ecco Forse con questo Posso fare qualcosa Mushroom stew Eh ma non ve lo fa questo Eh No ragazzi Funziona così Non funziona così A quanto pare Si può sapere dove cazzo è il ferro Bella misti gatto Oh eccolo Perfetto Ci sarà un po' di Napoli sta stagione Eh vediamo Se fitta con la lore ci può stare Eh La lore prima di tutto ragazzi Ricordate Molto importante Però vogliono sempre gli smeraldi Sti tizi Quindi boh Non lo so Non mi Non mi convince Vabbè comunque Come avete capito Sta season Nel moddato E di conseguenza Ci saranno tante aggiunte Che però non sono Eh Particolarmente Che cazzo è Benissimo Molte aggiunte Bisogna scoprirle Ecco Diciamo così Sono delle bellissime caverne Dove non c'è effettivamente Nulla All'interno Qua c'è dell'acqua O del ferro Sto cercando del ferro Perché alla fine Allora il diamante Non sarà Dissensualmente Non è che me ne frega nulla Però Diciamo che Far comodo Ciao Gamefield Grazie al sub Faccio Grazie al sub Legendary Arms Grazie anche a te Molto gentili Molto gentili Grazie mille Siamo Xenerele Troppo gentili Poi sono delle emot Nuove Bellissime C'è la Lap Dance La mia nuova emot Preferita Perché non fai più Video di Youtube E perché Mi mancava Il contenuto Su cui fare i video Ora Riprende Perché ripesa Pandora Capito Tac Molto bene Pandora è ricominciata E ricominciarne i video Ovviamente il mio editor È già pronto A ricevere le frustate Chi c'è della neve Non mi interessa Andar lì sopra Con che sei squadra Ma in realtà con nessuno Volevo fare il muratore Leo sembrava Un po' interessato Sedia sembrava interessato A fare il muratore Quindi Potremmo fare Il team muratore Capito Ho conseguito anche Un diploma da geometra Che non ho mai Riscattato Ma che un altro discorso Ci sarà better Sta Pandora Non credo ragazzi Tu 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 Ok Perfetto Molto bene Ce l'ho in questa stagione Da quel capito Sì ma non oggi Oggi si perde il day one Anche Poldo Non c'è Perché Da quel che avete detto C'ha la febbre Ma io dico Ragazzi C'è Un po' Uno sfigato Un po' Uno sfigato Si partecipa Anche quando si sta male Ma che è sta storia Perfetto Bertraghey Bertraghey Vabbè Capisco Capisco La febbre a 40 Febbre a 40 Ma guarda qua Quanto ferro Vabbè Io ho già fatto La scorpacciata Per tutte Allora chat Dobbiamo pensare Vogliamo fare I muratori O vogliamo fare Il maresciallo Il maresciallo Muratore Perché Tanto voglio dire Siamo ancora all'inizio No Siamo ancora all'inizio Possiamo un po' Valutare come Si muovono le acque E poi decidere Cosa portare Possiamo portare Un po' Di sicurezza E rispetto In questa Pandora Muratori mafiosi Ah Dite che così Costiamo le case Con Mettendo direttamente Dentro le persone Beh Con Emek E siciliano Ci può dare una dritta Che Qui chiaramente È del settore E Io sono arrivato Da qua Se non sbaglio Quanto ferro abbiamo A 53 Minchia Nova me lo perquisisce E dice E tu traiardi Troppo Già 53 Di ferro Sequestrato Sequestrato Speriamo Non se ne accorghi Ma più che altro È che almeno Mi metto avanti Così dopo C'ho già tutto Capito E anche Che cazzo c'è Attenzione Eh se ciao Non lo prenderò mai Quello Oh Eh Shit Vabbè Abbiamo dei blocchi Un pochino Sì Perfetto Io sono di Palermo Grande Grandissimo No Tutto 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 Ok Boh Usciamo Direi che abbiamo fatto Abbastanza ferro Questi gentili signori Prima o poi È che c'hanno Dei trade di merda Sinceramente Quindi Io non ho Tutto sto interesse È un inizio Buono a sapersi Però Detta sinceramente Ma io che cazzo Ci scambio a questi Boh Non lo so Va bene lo stesso Allora Usciamo da qui Io ero passato da qua Boh Sti funghi Non so cosa servono Forse bisogna cuocere No ma non si cuociono I funghi Cazzo Ne so Prendiamo questo Olè Prendiamo anche un po' Di cockblestone Quella mi piace a me Eh allora Mi danno del pattume I funghi Non so cosa servono Questi colorati Sì Almeno quegli altri Si fa il cibo Ma sembra già che il cibo Non manchi Che mi rende contento Siamo scesi da qua Non penso proprio Adesso bisogna tornare A casa ragazzi Che altezza siamo 77 Va bene Ciao amici belli Tribes Master Elco Polvere data Border trans Grazie mille di sub Ragazzi Sappiate che Se vi abbonate Io vi leggo Devo andare verso Pandora 5 Attenzione Sento Leonardo Da queste parti Dove sei andato? Sono Cercando Pandora 5 Ma sono dietro di te Sto uscendo Sto uscendo Io sono sopra Sto uscendo Mi vedi vicino al tipo Che sto per far cadere Nel burrone No 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 Sì Sì Eccomi ragazzi Ti vedo Ti vedo Ok Puh Sotto ci stanno dei tizi Ci stanno dei tizi Con l'AIDS Sotto L'ho visto Era lì con M E sedia E sono persi Sono andati in Pandora 5 Dov'è Marcus? Marcus Eccolo qua Allora io ho già raccolto Una stack di ferro Siamo pronti Così andiamo a picchiare tutti Io ho zero Perché sono morto giù Da Emerald Mi ha fatto soffocare Nell'acqua Come si fa a soffocare Nell'acqua? Eh mi ha fatto Soffocare Emerald Ah Ti ha fatto il soffocone Emerald Ho capito Avete bisogno Di un po' di cino Ma sono appellati Ma la ringrazio Ma chi è lei? È me Uomo ghiaccio Sedia No sicino Ah ho capito Un osso piccolino Ah ho capito Ma a me lei sembra di ghiaccio Mi sembra fatto di ossa Ghiaccio non ha le ossa È perché siamo stati ibernizzati Ah ho capito Vabbè dai al suo perché Aspetti che mi chiamo Marcus Dove è andato? Ma questo cavallo è il suo? Sì Oh porca vacca Visto È velocissimo Assolutamente sì Come l'ho trovato? Per strada È stato muro a prima vista Visto Mi segue Come fanno Vorrò un amore del genere Eh speriamo che sì Ti auguro di trovare l'amore Alla prossima Andiamo Marcus Ma poi c'ha anche 14 vite Emerald Emerald Sono Emerald Buongiorno Ah buonasera Emerald Ci sono gli Emerald qui Mi sono cambiato la skin apposta Te la sei cambiata Wow Ti sei cambiato Oh ma è tornato anche i ferro Ma come sei uscito dagli ferro Ho preso una stack di ferro Adesso da prendere i diamanti E le annederite Eh sì infatti Su serio Santo Dio Si modificano le skin Prendi delle vitamine Posso chiamarti Posso chiamarti Lollo Lacustre Adesso Allora 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 Se facciamo a cambio di sabbio E lui volentieri Ok perfetto Vabbè Fan di Lollo Subbate a me Grazie C'è un venditore di droga Sì Li abbiamo già visti Li abbiamo già visti Sì 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 Venditore di droga La voglio Qualcuno ha visto Christ is Purple No La buonanima La buonanima Quindi Agavo Che facciamo qui Dobbiamo creare Una Un'azienda edile Anche Oh Un'azienda edile Ok Sì Ok Quindi finalmente posso fare i miei pilastri Esatto Di materiale organico Puoi iniziare da Leo Sì 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 Riciclabile Al 100% Potremmo bonificarla Mi sembra un'ottima idea Con la mia stack di ferro Che ho raccolto in 5 secondi Con il turbante Possiamo andare a bonificarla Incredibile Sì c'è qualcuno Che sta cresciando Aspetta che gli do la mano Che ne pensate di Di scegliere un'area Ah Ciao ragazzi Cristo ho un regalo per te Ciao Fieri Che ragazzi Vi ho cercato di per mezz'ora Ecco qua Ma tu sei troppo elegante Dammi un pugno Perché Perché Sto giocando Con Sbreezer È Sbreezer Sbreezer tu hai fatto un dito Con un mio amico Non è vero Non hai amici A parte che adesso Hai capelli neri E li ho visti A Lucca Comics Tiratemi su Tiratemi su Cristo ti regalo una cosa Che c'è che c'è Stai calmo Non si sente un cazzo qua Dai i pantaloni Stai zitti Oh Oh madonna Allora intanto per favore Non guidare Ok che il cuore è debole Va bene Non volevo farti male Scusa Cristo tieni il regalo No 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 Dimmi pure Allora io sti chiami Cristo is purple Ho raccolto un fungo viola Proprio per te Ha qualche malattia rara? Spero di sì Ok come lo mangio? Eh no No Marcus Buono Marcus Volevo mangiarlo Volevo mangiarlo Scusa Ma come cazzo la mangio? Non posso mangiarlo Eh penso di no Oddio Leo Ho provato a fare la zuppa Ma non funziona nemmeno quella Oddio Leo Ok Quando farò la zuppa Ti farò sapere Va bene Allora abbiamo due possibilità O costiamo una casa O rubiamo quelle che ci sono già E qual è la scelta più cattiva? Che che mi ha fatto? No È lui È lui C'è il villager È il villager È stato il villager Pallo per È villager È villager È il villager Devi bicchiarlo mi sa Devi bicchiarlo Sì 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 Sono 30 minuti che il live Continua Da farmi paura Io ho paura Ma è street sniving Deve essere un fan Deve essere un fan Qualcuno ha liccato l'IP di Pandora C'è un villager che mi insegue Esatto È stato È stato nova Ragazzi posso dirvi una cosa incredibile Dici Nel mentre che vi cercavo Ho parlato Con una femmina Di quelle vere Ma hai avuto un coraggio incredibile Ho ancora la caccae nelle mutande Però l'ho fatto Lo capisco perfettamente Possiamo andare via per favore capo da qui Anche io prima ho visto quella femmina Sai cosa le ho detto? Cosa le hai detto? Lo faceva Lo faceva anche mio padre Con mia madre Trent'anni fa E ha funzionato Quanto fa? Ha funzionato Ha funzionato benissimo È così che si fa Che funziona Grande Marcus Ma come che fate a fischiare ragazzi? Bisogna avere il cavallo Cioè di aver prima fatto sesso col cavallo Non basta prendere il cavallo Dopo che hai fatto sesso col cavallo Ah la zofilia mi piace Sì guarda c'è se Guarda il cavallo Io lo metto qua no? Vai Marcus Io mi allontano Guardate Marcus Ok stava mangiando Grande Marcus Ma io l'ho preso un cavallo Però non c'ho la sella Va bene lo stesso? Non lo so Eh ma cosa devo premere per fischiare? Eh prima Io non lo intendo di Minecraft Vieni Marcus Allora c'era il tasto Non mi ricordo qual era Mi pare Eh lo shift sotto la barra spaziale No sotto l'invio Quindi lo shift di destra Quando sei sopra il cavallo Sì Hai rubato la sedia Ah la sella Ah no ce l'ho La sedia? La sedia non è la sedia Che hai rubato sedia vabbè E Dopo che hai premuto quel tasto lì E Il cavallo diventa tuo Cioè ufficialmente copulato E puoi fischiarci addosso con G Ah ok capito Ok ok Bene Ora Non so dove Doviamo fare la ditta e dile Però Leo è sparito Anche se ti è sparito Loro sono i nostri Ditta e dile? Siete degli imprenditori? Io faccio pilastri Sì E' quello che fa i pilastri E' quello che voglio fare anch'io Perché mi sono messo in giacca e cravatta Per sembrare professionale Ma in realtà non so fare niente No no io faccio pilastri in organico Sì Ah ok Meno resistenti Ma sicuramente è più facile da fare Perché il materiale organico è gratis Come il Ponte Morandi Esatto La prima verazione No no quello non l'ho fatto io Io ho fatto quello sullo stretto di Messina Vado a cercare gli altri ragazzi Col mio potente Marcus E faccio un secondo Fantastico Sium Arrivederci Ciao ragazzi Ma qua ci sono altri cavalli Ok Vuole essere in pilastra Ma? Sì raga Questa dove è uscita? Ma stiamo scherziamo? Oh Ma dov'è la palude? Scusatemi Allora grazie OnasTV MicheleGG Pippo It's Ciro Soseki Andrea Tope Grazie di sub ragazzi Siete molto molto gentili Grazie K980 A me stai bello Ma è una lontra Si chiama lontra è vero Quei cosi lì Siamo alla la Oh cazzo O una marmotta Capo Ce l'hai fatta Ok Hai usato la tecnica Ecco La tecnica Sì non capito Cioè che devo fare ora Hai premuto La shift sotto L'invio Quando sei sopra il cavallo Che ti dice Ora hai fatto sesso Con il cavallo Bene Sì dice che ora è fedele a me Per sempre Scendi dal cavallo E ora premi G Listo Oh no vabbè Ha funzionato Bene andiamo in centro città adesso Comunque c'è già un ender chest qua Ti faccio notare Eh sì ma non so di chi sia Ah boh Rimarrà lì per un poco Vai Andiamo a dominare Sium Mi sa che questo il cavallo È già velocissimo Al centro città Dove cazzo era Di qua immagino Guarda Eme Ci sono già dei pilastri qui Oh vediamo se c'è qualcuno dentro Orca miseria Ma è sto Nenge Ma il villager Ma il villager Ma signor villager No Ehi No Eme basta che premi Premi il pulsante Eme fischia Ecco qui Hai visto Che capito lo so Che capito Guarda come scappa Matalo Matalo Ok Fatti rispettare Ecco E aspetta Come la mettiamo adesso villager Aspetta aspetta Va bene Va bene anche così Non si fotte con Emerald È giusto È giusto Abbiamo già una vita Perfetto Perfetto Abbiamo già fatto capire Chi comanda Oh mio dio Lo vedi il 360 Guarda che trick L'hai visto? Ma aspetta Oh Oh No vabbè Incredibile Vedo c'è C'è qualcun l'orizzonte Ma è Cristian Cristian is purple Beccati sto 360 Siete di nuovo qui Siamo di nuovo Avete trovato i compaesani? Ragazzi mi sono affuso Con il mio cavallo Oddio Come cazzo hai fatto? No bro Come cazzo hai fatto? È diventato il cavallo È diventato il cavallo Oh no Guarda qua Guarda il ballo sexy Guarda il ballo sexy No come fai l'emote Ragazzi come fate l'emote Il ballo sexy Alt E da lì si capisce tutto Non ne ho neanche una Come faccio ad avere In basso a destra All emotes Ragazzi Allora così si fa il saluto delle trote Ce la Ce l'emote di Cristo Guardate La Cristo emote Hanno fatto un emote per me Non ci posso credere ragazzi Nova best developer Beh adesso esageriamo Mi pare un po' esagerato No ragazzi Sono già innamorato di questi Anche io sono il cavallo C'è un problema con i cavalli Rick 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 andiamo in giro così Rick andiamo in giro così Andiamo 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 No non posso salire sui cavalli così Servirebbe un cavallo anche a te No Sarebbe stato troppo divertente Uno che era il cavallo E uno sopra il cavallo Fammi vedere se ci stanno altre Altre emot strane Che possa in qualche modo Ma che cazzo Oh Oh Sono sparito Guarda Andiamo a rompere Cazzo così Aspetta Ragazzi andiamo a rompere La casa della Lola Custra In questo modo Non ha neanche logato Infatti Spostimamente È un piano Aspetta Faccio la seconda pagina Com'è che si chiama Stai emot qua Dove ti Ti sdrai Diventi Ok Belly lying Perfetto Poi c'è questo Questo è un emot a cavallo Adesso le metto tutte Aspetta Le metto Adesso le metto anch'io Sono troppo belle Queste qua Vai questo qua Che mi metto seduto Tipo punizione Bellissime Oh yes Face palm Ma no Quante ce ne sono comunque Oh c'è il sium Sium Forse Fammi vedere Oh di Oh Questo è il sium Più bello Della tua vita Tiuk Tiuk Questo è l'aggiornamento Tiuk Un anno ragazzi Per raggiungere il sium Raga guardate 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 Cos'era 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 Ok Sei un verme Sei un verme Guarda Vermerald Vermerald Sono morto Ho fatto un backflip ragazzi Devo scoprire le morte delle vecchie Ho arriva Oh Cos'è Ma il mio Cosa Che è questa perso Ah ma non è Dov'è il mi Ah è qua Ho un affare Ma che cosa Come fate a avere tutti la sella L'ho comprata io Hai visto Sono in smoking Però ho io un'armatura Madò Dimmi Il cavallo di troia Che hai detto di mia madre Dove ti sei permesso Ok Andiamo così Andiamo così Andiamo Andiamo Un cavallo adesso Cristo Ciao Bello Oh what the fuck Ma che Sono il cavallo No è diventato il cavallo Sono diventato il cavallo Leo ti faccio Leo ti faccio De una cosa Guarda Che schifo No Potessi diventare Guarda No Non ci credo Siumato nel 2023 Marcus Dov'è la miniera Che anche io Dovrei bisogno di minare Allora io La miniera Che abbiamo utilizzato E' quella lì Che sta lì Però stavamo Cercando di capire Dove Dove Fare le cose Lì dentro Ok Grazie bella Cop Che facciamo Arrivo Ok ragazzi E' tempo di eseguire Il gaming Ma questi sono diventati Cavalli Ma che cazzo Ehm C'è letteralmente Un cavallo Un lead Questa qua E' la casa Dentro All'altro Di sopra Soprattutto Si trova Un sacco Di cosa Carina Oh grazie Perro Siiii Perro ti devo Dire una cosa Perro ti devo Dire una cosa Senza mani Dimmi Siiii Fieric, Fieric puoi nitrire per me. Grazie. Puoi essere stato chiaro. Fieric puoi nitrire per me. Allora vado a controllare un attimo. Vai. Quello. No, purtroppo. Quello non è nitrire, Leo. Siete già stati al piano di sopra di questa casupola, vero? Perché ha dell'ultimo messaggio. Stiamo andando adesso. Bene, bene, bene. Di sopra. Ricco. Ricco. Deve prendere quella del car, Ricco. Aspetta, cosa? Qual è? Guarda. Ma che schifo. Ma che disgustoso. Che cosa sta succedendo? Guarda la coda. Gesù, che schifo. Io credo di aver visto un video che iniziava così. Guarda, io ho la testa nel culo del cavallo. La sventura che esce dal culo del rinoceronte è uguale. E' proprio quello. Sta partorendo Fieric, sta partorendo Fieric. Spingi. No. Eccomi qua, ragazzi. È un calabrese. Come ti permetti? Io vado a vedere il loot al villaggio. Magari c'è qualcosa. Arrivo, Leo, vengo con te. Voglio... Sono già rubato tutto? Ma c'è un cazzo. Ma no, le casse sono singole. Sì, come se ci fossero, poi. Hanno già proprio rubato tutto il villaggio. In compenso, abbiamo trovato una cassa dove ho trovato, non lo so, un foglio di carta e due pietruzze, mentre gli altri hanno trovato un'armatura di diamante col mending, non so che cazzo. Perfetto. Ma dove le hai trovate? Sei qui in giro? Sopra a un albero. Ci sono degli alberi con sopra delle casse. Presto, Marcus, andiamo. Sedia, sedia. Sedia, davmi un bacino. Ok. Prego, prego. Ragazzi... Un bacio a Leo. Ah, sei gay! Dove facciamo la base? Allora, io... Casa sugli altri, Leo. Ragazzi, allora, signor Fierich, signor Fierich, lei è il capo del gaming edilizio, no? Allora, io suggerivo, dato che vorremmo creare un posto dove potremmo... Io sono il vice capo dei paguri. Va bene, dopo però, Leo, qui non esistono ancora i paguri qua. Ecco, vogliamo vivere in armonia, ma vogliamo anche una ditta che, insomma... Una dittatura, vogliamo? Mi piace. No, è una ditta edilizia. La chiamiamo dura, la nostra ditta? Ditta dura. Ditta dura. La ditta dura? È perché è dura. Posso dire che è un bellissimo nome? La nostra ditta sarà dura. Ditta dura. Allora, dove dobbiamo andare? Verso il centro. È un payoff incredibile. La vostra azienda sarà... Io rubo una casa. Andiamo già, Peter. Fortune 500. Io rubo una casa che la ricostruisco poi di là. Perfetto. Grande, Leo. Allora, pensiamo. Pensiamo. La vogliamo fare, quindi... Deve essere una ditta dura. Dove... Qual è? Cosa c'è più dura delle mura? Ditta mura? Posso anche... Quanto sono simpatico oggi. Si vede che sono il capo, eh? Allora, io... Dovrei un posto semi-alto vicino alla lava. Allora, io... Facciamo così. Io ed Eme abbiamo il cavallo. Esatto. Ora, io per l'ustro remura da questo lato e tu da quell'altro. Va bene, Eme? A me piacerebbe se trovassimo un posto tipo un alto piano da cui si vede il mare. Arriviamo tra... Sì, aspettate, forse hanno già inventato un metodo di comunicazione tipo radiofonico. Assolutamente sì, venite sul Discord. Sì, 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 sì. No, è che hanno detto che dobbiamo farla intorno alla lava, non troppo lontano. Vabbè, e... Eh, questo lo dico... Il metodo radiofonico, capo. Lo chiamerò Discord. Ci vediamo lì. Arrivederci. Wow, è come se potessi parlare con voi, ma siete qui a fianco a me. Ma è incredibile. Ciao, ragazzi. Hanno già inventato la radio da queste parti. Così non devo premere duemila volte, è fantastico. Mi piace. Ma io infatti non ho il, come si dice... Stedia. Non ho il... Come cazzo si chiama il cazzo? Premi il bottone. Push to talk. Il push to talk, che è come veniva. Il mio regalo non è successo. C'è un muto smuto. Non hai preso il mio regalo. Garzimini sale, capra canta, garzimini sale, garzimini sale, garzimini sale, ragazzi. Ah, bellissimo. Ma io ho il... Il mio almetto mi dà la course che se tocco l'acqua mi faccio danno. Sono un LOL player. Perfetto. Allora, ehm... Sotto con l'acqua prendo danno, guarda. Guarda. No, sei un giocatore di World of Warcraft, adesso non esageriamo. È berrofronzo, siamo subito. Oh, mio Dio. Ho trovato una casa molto strana nell'angolo, ragazzi. Ragazzi, qui è pieno di cavalli. Pandora, 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 Pandora. Raga, ho trovato una casa. Ma nel tricciate c'è qualcosa? Sì, sì. Vado in perlustrazione, arrivo tra due minuti. Io sento, io sento. Trovate, trovate. Raga, è interessante sta casa. Beh, è un cavallo molto particolare questo, devo dire. Come potete vedere. Chat, che cos'è sta casa? Guardate. Oh, mi sono incastrato. Ok. Perché costo una casa quando ne esiste già una? Diciamo che ci è di Meglio. Le ossa rotte non so cosa mi servono. Sicuramente credo a nulla. Ho una carpa, ho i funghi. Questo ormai è andato a pittane. Ma perché sto pane diverso? Ma che... Cristo, vabbè. Via! Le patate si coltivano. Bene. Ma è già stata esplorata, forse. Chi lo sa. Vabbè. Ok. Queste non si possono aprire, è molto bello. C'è un cazzo. Ok. Rubbiamo tutto. Vai, con questi poi ci facciamo i letti. Ci facciamo i letti, ragazzi. Ok. Sembrerà poco, ma per noi è tanto. Anzi, tantissimo. Eeeh. La conoscenza. Il sapere. Incredibile. Oh! I letti. Rubbiamo tutto. Rubbiamo tutto, ragazzi. Molto bene. Questa è la berrofronzolore. Alla sedia caverna. Raga, ho trovato una casa già costruita. Ma non funziona così, davvero? Io ho rubato tre letti e un po' di loot. Siamo su Discord. Ma hai trovato il megacastello? Aspetta. Yes. Non so se è un castello. Ho trovato qualcosa qui. È una casa strana, tutta verde. Ciao, ragazzi. Ho scoperto ora che eravate su Discord. Figo, vero? Sì. Sei sempre il migliore e il più aggiornato, cazzo. Sono il miglior streamer del gruppo. Chris is purple. Ciao, ragazzi. Come siete? Eravamo su Discord solo per la motivazione che così non c'eri te. Adesso è tutto rovinato. Oh, brah, non è vero. Spero che tra questo e tra Jumpy Tech stirato da una macchina, oggi sei proprio veramente E' veramente simpaticissimo, eh, amore. E' la loro cattiva. Se vuoi chiedo ai TPOC se mi invitano nella Big Vanilla. No, non andare nella Big Vanilla. Ma solo la concorrenza. Ma la Big Hardcore era, no? No, nella Big Hardcore fanno vedere il tuo numero di telefono, non farlo. No. Meno male che non si vide il mio, guarda. Ma no, lo sapete che se si vedeva il mio, vedevano anche mezza mia faccia? No. No. Io l'ho vista, la sua mezza faccia. Io ho un castello. Quindi vedono veramente che sei un NPC di Minecraft. No, vedono che sono uno sfigato di merda o peso di Discord mod. No. Beh, polvo due, ragazzi. Sono facissimo. Allora, a me sembra particolarmente eccesivo. Comunque guardate con questo. Mi sto mega deprimendo, tipo. Ci sta. Senti, ho parlato di me, dai. Cos'è successo a Jumpy Tech? Lo dico solo a chi si abbona. Jumpy Tech, c'è basta. Cos'è successo a Jumpy Tech? Non è successo a Jumpy Tech, speriamo, perché sennò si denunciano, cazzo. A chi si abbona glielo dico. Domani, primo in tendenza, domani, primo in tendenza, ragazzi, vi devo dire una cosa. Lui in ospedale. Oh, lasciate stare. Cioè. Ma l'ha appena fatto Mike Shosh un video del genere. No, no, no. Sì, sì, tipo si chiama. Vi devo parlare. Sì, l'ha appena fatto. No, non ci credo. Cosa fai? Gli avranno rubato i FIFA coins. Come l'ha fatto a Zano tipo l'anno scorso. Allora, a proposito di FIFA coins, abbiamo deciso dove piantare bandiera? Dove piantare la droga? Non volevo dirlo. Facciamo il nostro castello. Salve. Allora, quante cose belle sono qua dentro. Non si preoccupi, non ruberò niente. No, ne rubiamo. No, non ruberò niente. Voglio provare una cosa. No, uccellino, spostati, te ne prego. Ma perché continuo ad abbassarmi? È perché quando premi il tasto per stretti non puoi più rialzarti. Quando ti fermare ti sederai sempre. Ah, era Ips. Eh sì. Ok. Hai visto? Voglio fare un test. Ma c'è già l'arco inciantato. Che tryhard ero. Aveva proprio... Ha ragione Nova, ha ragione Nova a dire che si tryharda troppo. Mamma mia, sembra la big hardcore questa. Vieni, vieni. Ok. Voglio provare una cosa su Rage. Ok, a sparargli spero. Sì. Benissimo. Ah, eccoli. Rageesh, Rageesh, devi provare assolutamente questa cosa. Cosa? Oddio! Oddio! Mi è diventato grosso! Finalmente sono diventato... Puoi sparare anche a me? Molto bene, vedo che state già sperimentando le prime tecniche di difesa contro le forze del male. Spara il vecchio! Evolviti! Spara il... Oddio! Ancora, ancora! Sparagli ancora! Ma dò, una patata enorme! Uè! Ehi, che macchabòia! Beh, ragazzi, devo fare un annuncio. Mi metto in alto. Ho un annuncio da fare. Eh, però quello che costruisce lui non lo distrutti, eh! No, la pistola mi confeso! Bene, posso andare. No, figurati! Ma perché c'è quell'emoticon? Sì! Sì! Ecco. Abbiamo tratto il content per il primo giorno. Oh, Marcus! Marcus è una donna fedele, vedi? Fischio torna. Facile. Vieni qua, Marcus. Ora diventano un tottuno con Marcus. Ecco. Marcus, andiamo! È il cavallo di Troia! È il cavallo di Troia! È il cavallo di Troia! Ma no, è un megazord. Oh! Perché c'è un cavallo di Troia di Troia? Che cazzo? Che ora andrò a vedere come ce la cavano gli altri? Ma tutti i biscotti! Faccio, faccio! Ok. Vabbè, comunque. Perché ci sono i dischetti che troppano? Ehi, Giovannotto Cavallo! Ma gli scheletri troppano i biscotti! Dove sono gli altri ragazzi? Dove si sono stabiliti? Indicami la via! Ma io che ne so, scusi, ma non vede che io... Ma perché sei rimasto solo tutto questo tempo? Ma assolutamente no, però ho il mio potente cavallo e faccio sesso con lui, se non mi servono altre persone. Ma questa non è la risposta... Ma io... Ma che risposta è? Ho detto un'altra cosa! Tenga un po' di biscotti, ma mi sembra un po'... Tieni della terra! Grazie, è troppo gentile! Sai dove si sono stati i dischi, ragazzi? E... Sicuramente molto lontani dalla lava. Questo glielo posso assicurare. Capisco, allora vado ad esplorare. Bene, bene. Arrivederci, vecchio! Incoglionito. Vabbè, comunque... Sono un tuo fan! Com'era la cosa delle 3C? Allora, signori Previns... È la cosa delle 3C? E... Allora, purtroppo... Posso dire... Posso dire la legge. Le 3C stanno per cucina, cazzo e cazzotti, ma non posso dirvi il soggetto, ecco. Il soggetto non posso dirlo, purtroppo. Il soggetto non posso dirlo per... Capito? Grazie, Pocheco, il sub. Grazie, Mooking, Lollo Speaker. Fa un filo, grazie ai sub, ragazzi. Bene. Che fate, ragazzi? Voglio andare a prendere la sella. Ok, ma parla soltanto da una delle due parti, per favore. Scusa, scusa, non so da dove sei, perdonami, eh. Prima avevi spento. Ma prima aveva spento, scusa. Eh, ma perché ero andato un attimo a fare il zoom agli altri. Ok, scusa, allora. Allora, dobbiamo fare in qualche modo, cioè dobbiamo edificare da queste parti. Comunque è veramente piccola sto posto, cioè... Sì, non c'è tantissima roba. Sì, queste mura, nonostante tipo siano sette milioni di metri quadrati, comunque ti sembra piccolissimo. Ma perché di fatto non c'è niente, Dave. Di fatto non c'è l'acqua, non c'è nulla. Ragazzi, continui a ridire il discorso delle forze maligne, perché io non lascero. No, ma sul serio, è basic anime plot, cioè non devi pensare... Non lo so, non guardo anime! Vabbè, ascoltami, uomo cattivo, è come Dragon Ball, dai, hai visto Dragon Ball? Ci sono delle persone maligne, hanno distrutto tutto. Noi siamo stati salvati e inseriti dentro delle celle criogeniche per rimanere preservati. Abbiamo costruito, qualcuno ha costruito queste gigantesche mura per tenere fuori le forze del male. Ovviamente nessuno sa come. Esatto, noi siamo stati respawnati dal sonno criogenico e con la victoria, essendo l'unica donna del server, c'è stato detto di ripopolare il pianeta. Ora, io non so bene... Ho detto asta la victoria. Ecco, e quindi inizia Temptation Island. Esatto. Ho capito. Però, cioè... Ho trovato un castello a forma di lama, ragazzi. Ora ho capito. Però almeno possiamo farci la reaction su Twitch e quindi va bene. Ha senso, ha senso. Ha senso. Scusa, sai dove cazzo stiamo andando? Da Leo, Leo, dove stavi? A 700, 700. No, Y cos'è? Raga, ho trovato un lama con i baffi. Due lama con i baffi. X400, Y100. Sì. 700. Allora, io ti stavo seguendo. 171. Ti chiedo scusa, mio caro Cristiano. No, metti da piangere. No, no, non piangere, dai, mo' non piangere. Che sei, ciccio gamer? Sei tipo un lama. Raga, ho trovato un lama con i baffi e il fez. Anch'io sono al lama. Scusami. Ce ne sono di più. 700. Ti vedo, ti vedo, ti vedo, Fieric. Ti vedo, sono dall'altra parte del lama. Dal culo, guarda il culo del lama. Secondo me, secondo me, Leo ci ha appena detto... All'altra parte della valle. Scusa, Leo, come è la z tua? Ecco, Tim. Eh, z 75. Ma come 75? 870, prima. Eh, vabbè, perché si muove intanto. Ah, quella montagna. Hai dovuto attraversare un piccolo corso d'acqua? Sì. Ah. Era un corsivo. Oddio, c'è un castello. Sì. Noi siamo al lama. Oh, ci stanno già i botti? Hai Napoli veramente questo? Hai attivato un evento? Chi? Avete attivato un evento. Ah, ho attivato proprio nulla. Oh, questo è un Cristo, buongiorno. Salve. Io sto cercando Leonardo Brù. Noi siamo al lama. Cristo del Dio. Tirolo disruptor, tirolo disruptor. Vai, ho conquistato il lama. Deve essere un pezzo importante della lore, quindi lo uccideremo. Editiamo un fuoco. Il povero, dai. Perché? Ma no. No, dai, non se lo merita, non se lo merita. Wow. Cos'è sto casino qua? Justin Bieber. Ma perché ci sono i fuochi d'artificio? Wow, però bello sto posto. Leo, dove sei? Veramente, stricciano la stessa cosa, ma che cazzo è, Leo? Dove? Leo, dove sei, Leo? Il lama non è un punto di riferimento, va bene? Non è il lama. Allora vi dico io, allora. Dove cazzo è il lama? Z è 10, praticamente. X è 445. 450, toh. 450, 10. All'ama? All'ama è bene. C'è veramente un cavallo con su scritto Jumpy Tech qui, va bene. Ok. Ma che cos'è quel? Ma il lama di Fortnite! Non ci credo, ragazzi. Quanti impazziti per questa cosa. No, vabbè, hanno messo Fortnite in Minecraft, non ci credo. It's Fortnite, ma... Frontcraft! Oh cazzo, è vero. Si può buildare, eh? Si può buildare, eh? È effettivamente il lama di Minecraft. Sì, buona di Minecraft. Ma che è il lama di Minecraft? Il lama di Minecraft, sì. Vabbè, quindi... Oh mio Dio, ragazzi, dentro ci sono dei lama bellissimi. Guarda come ruba. Ragazzi, c'è un lama con un cilindro e una pipa. Sto entrando, sto entrando. Sono di nostre lama, questi. Ok. No, ma è piccolo, c'è il piccolo. Il piccolo di lama con la pipa. Ma possiamo romperla, questa mappa? No, non penso mai, magari sia qualcosa di... No, no, non serve. Ma tanto è già... Guarda come è fatto male, cioè. Ma infatti, ma che ha buildato sta cosa? Sicuramente. Chi è lo scemo che ha buildato sta merda? No, Fra! Stai calmo. Hai mangiato grasso stasera, Fieric. Tutto a posto. Oggi Fieric c'ha solamente critiche costruttive, tipo. Costruttive moltissimo. Questa merda. Fatti tutti schifo. Ragazzi, c'è un uomo brutto dentro. Ah no, era questo. Sono io, scusami, però... Allora, io insisto ancora una volta per trovare il punto dove costruire il nostro villaggio. Non ci interessa, stai zitto. No, non ti azzardare a chiamarlo zitto. Non mi chiamo zitto. Non manco fa così, però. Non ce ne frega niente. Comunque, ascoltatevi piuttosto. Abbiamo trovato un punto nelle costruite case nostre. Ma sei un pezzo di merda. Hai ragione, hai ragione, Fieric, assolutamente. Senti, lascia parlare lui. Fieric. No, no! Ora basta, adesso parlo io. Dobbiamo trovare un punto dove costruire la nostra ditta dura. Grazie per averlo detto. Finalmente qualcuno che lo dice. Ora parla io. Devi fare la copertina con te, triste, in bianco e nero e iniziare il video sospirando. Altrimenti non puoi parlare tu. Devi sospirare prima. Vi dirò cos'è successo a Jumpy Tech. Prossimo video. Bello. Ormai Jumpy Tech è un mascotto ufficiale di Pandora 4, tipo. Sì. Tutto il Jumpy Tech, ragazzi. Ma questo che cazzo di caverna enorme è qua sotto? Allora. Ma non lo so. Dio buono, ragazzi. Ma ho un'idea. Ho un'idea per rovinare il paesaggio. Facciamo una costruzione tipo... La nostra casa sarà un ponte che parte da qua e arriva dall'altra parte. Dai, è bellissima. Da muro a muro. Il ponte di Terabitias. Da qui, il ponte parte da qua, arriva là e questa qua sarà casa nostra. E le nostre cose dove le mettiamo? Sopra il ponte? Sì, ma sarà un ponte piatto e basta. Cioè, ci edificheremo sopra, ovviamente. Cioè, vuoi fare il ponte sullo stretto? Esatto. E me ha detto che l'ha già fatto, quindi ci può aiutare. Ah, lo dovrebbe fare anche Salvini? Sì, esatto. Lo dovrebbe fare. E così può prendere spunto da noi. E' bello, mi piace. Attenzione, spoiler, Salvini in Pandora 4? Sì. Prossimo video a Pandora 4. Dato che è stato anche a Luca Comics, quindi è stato che venga Pandora. Salvini in Pandora 4 solamente se non c'è Zero Calcare. Ecco, appunto. Speravo che venisse il mio meet and greet, ma non è venuto. No, perché lui aveva il suo meet and greet. Oh, grande. Grande, quella cosa delle ruspe, ti seguo su. Eh, sì. E io ho detto che... Grazie, Matteo, grazie. La fotoconferenza sulla ruspe era l'or. Sì. Quindi costruiamo qui. Sì. Facciamo il ponte? Sì, io penso di fare anche una casa per me. No. No, no, come ti permette. Sì, vabbè, grazie. Puoi scegliere l'altra parte del ponte. Molto costruttivo. Ecco qua. Ma perché non la facciamo più in alto? Ma andiamo a volutare quel castello? Sì, stavo pensando esattamente la stessa cosa. Allora, io opterei anche per... No, io non credo che... Ok, no, non è vero. Vai. Sento dei brutti rumori, eh, però. Eh, quello è perché... Sì, no, è brutto, eh, sto posto. Ma sta già lancando il server. Ma com'è possibile? Eh, pure io ho visto. Vabbè, ma sedia però, cazzo, tu c'hai già l'armatura di diamante. Io sono vestito di stracci, cazzo. Eh, ma perché io sono una delle categorie protette. Cioè il gamer? Esatto. Non capisco. Grazie a sedia avremmo i sussidi statali. Assolutamente sì. E viva. Qui sotto è pieno di zombie, credo. Posso avere il tutorial per averli anch'io? Eh... Quanto cazzo di cibo? Eh, ma più che altro è tipo un talento speciale, ci nasci. Sì. Si chiama gaming. Ok. Ma voi state elutando il castello, quindi? Se siamo dentro il castello a vedere cosa c'è. Siete incredibilmente bravi, ragazzi. Sta già laggando tutto. Ma perché la stick non si stack? Cioè nel senso... Wow! Stick non si stack. Non si aggiunge il cibo al cibo, non so come dire. Ma qui... Secondo me è Eme che è scompatto... Ci sono voci pelate da queste parti! No, no, no. Mi spiace nessuna voce pelata. Allora, vi devo dire una cosa. Dica. Cocco bello? Sì! Siamo amici adesso? Sì, sì, siamo assolutamente amici. Oh, cocco fresco. Quanto ti devo? 5 euro per questo pezzettino? No, no. Questo è gratis. Ah, ok. Dal prossimo invece? Il prossimo ne riparleremo. Marcus! Ma che è Marcus? Lui è Marcus. Guardate, ora anche io sono Marcus. What the fuck? Oh, no, sei dentro di lui. Aia. Io e Marcus sono una cosa sola. C'era una tortura medievale fatta così. Praticamente, non medievale, pardon, dell'antica Grecia. Prendevano un toro, ci mettevano dentro le persone e poi lo cuocevano. Ah, sì. Sì. Si chiamava toro seduto. Sì. Oh, cavoli. Marcus, non ti sedere. Vabbè. Beh, in bocca al lupo adesso a uscire da lì. Sembra molto comodo. Signor Gianni. No, Sergio. Gianni che fine ha fatto? Ma io non lo so. Le gambe fuoriescono dal, come dire, dal lano, dal cavallo, è normale. Vabbè. E ma perché sono più alto di lui. È normale. Ah, ok. Comunque ho trovato un lama con il fez, se volete, e i baffi. L'ho parcheggiato qui. Ci sono anche dei cuccioli di lama con la pipa, se vuole. Allora, secondo me, sono canonici per la lore, quindi possiamo ammazzarli per dare fastidio a chi l'ha pensata. Una bellissima idea, ragazzi. Va bene. Sì, però che casino, eh. Arrivederci! Arrivederci! Salve, salve, salve. Quando incontriamo le tipe in Pandora, faremo delle cose. E vabbè, tutti guamo. Salve. Sai com'è? Il mondo è tipo dieci blocchi per quindici. Buonasera! Sì, sì, ma... Abbiamo perso gli altri. Ma perché questo cavallo ha i pantaloni? Ah, non hai i pantaloni, è l'armatura. Se mai avessi i pantaloni. Vi stessi davanti. C'è un'altra persona dentro. Può essere. Cosa c'è qua dentro? C'è del loot? Ci sono un sacco di zombie. Dove, Leo? È pienissimo, casso ovunque. Su per la torre, da tutte le parti. Sì, immagino. No, è vero, è vero. E beh, a questo punto possiamo liberarlo. Infatti, se l'hanno fatto gli altri, tanto meglio. Cioè, mi sa che l'hanno già fatto. Sì, sì, ma tanto meglio. Non penso che sia un evento. Oh! Se lo era, vabbè, amen. Rovinata la lora nova. Vabbè, proviamo a scendere, va. Scacco matto. Orca miseria. No, è pieno, è pieno, è pieno. Oddio. Ho rotto. Ho l'effetto di wither. Dov'è il tir l'extra... Tiro l'extraptor? Che sta succedendo qua? Aspetta, faccio... No! Signor, la sedia a due gambe, non posso. Dov'è? Dov'è il tir l'extraptor? Non esisto. Oh, buonasera, Leo. Che ci fai? Ok. Luto. Luto. Il lag. Pro liberarti. Un altro disco. Bene. Aspetta. Oddio. Scusate, ragazzi. Non ho il piccone, non ho il piccone. Tirami una fune. Non ci sono le fune in Minecraft. Allora mi suicido. Bisognerebbe proprio implementare. No, no, aspetta, aspetta, aspetta. Non sono in una foiba. No, stupido. Ma quante ninta che ci sono a queste parti. Le fune in una foiba? No, Sbrizer. Ti sto liberando. Ti sto liberando, Sbrizer. Craft University. Oh, attenzione. Sbrizer. No, un'altra. No, però. Mi scopo, mia cugina. Scusate, ogni tanto... Che stai dicendo, Leo? Sbrizer. Leo, ma come ti permetti. Vergognati. Stupidi, stupidi, state calmi. Siete tutti stupidi. Ah, ragazzi, me l'ho chiesto in chat. Quelli lì, più del server? Allora, è sempre quello. Aspettate. È... MC, punto, due punti. 1, 0, 4. Cristo. 6, 9. 69. Esatto. Questa roba è un traveremo mai. No, è sbrizer, no? Secondo me, no? No, Fieric, non l'ha sentito. Ah, sì. Sta laggando il server. Eh, ma se parlano sopra. Ragazzi, hanno chiesto in città di più del server. Lasciate parlare, Fieric. Scusa, Fieric, di pura. Allora, è... MC, punto, 1, 0, 4, punto, 6, 9, due punti, 1, 1, 1, 1. Capito, ragazzi? Vi aspettiamo tutti su Pandora. Difidate dalle imitazioni. Schifosi. Aspettate. Ho sonno. No, bro, lo faccio solo sempre. Ma comunque è vero, è pieno di casse, ragazzi, qua. Niente, comunque è bianco e nero. Momento bianco e nero. Crash. Chiudere la live. È vero. Chiudere la live. Non è vero che riapra. Grazie mille. Per voi ci seguite. Grazie mille. Ci rivediamo lunedì sera. Ragazzi. Ciao ragazzi, ci vediamo settimana prossima con Pandora 5. Ragazzi, purtroppo mancava un blocco allo spawn e quindi Pandora viene riavviata. Cioè viene riavviata. No, finalmente. Ma chi l'ha rovinata, mi chiedo io. Ha detto Nova che ci lavorerà con tutto se stesso, quindi dai sei settimane in su. Mi piace. Perfetto. Va bene, episodio 1 finito. Allora, vediamo cosa dico. Ragazzi, ma perché non entriamo nel server ne we gonna give you up? Poi ce l'avete in lista. Ragazzi, ce l'ho anche io. È uno spoiler. La Big Vanilla però era gestita un po' meglio, eh. Spero. Il primo giorno hanno direttamente fatto facciamo domani. Il primo online, Rai. Sì, siamo online. Oh, Cristo del Dio. Minecraft funziona. No, il doppio. Stanno arrivando gli zombie armati. Occhio, occhio, occhio. Ma cosa? Ce l'ho a dire i zombie armati? Zombie armati da dentro il castello. Guarda, guarda lì. Li vedi? Ragazzi, eravate voi dentro il castello. Grazie, Spider Head, Super Matt, Lucatron, Chara, Turbo, LG Team, Ipocheco, Mooking, Lalo Speaker, ragazzi di sub, ragazzi. Tu puoi soltarla anch'io. Sono singole. Gartic Phone. Hanno un'amica? Allora torna al castello, raga. Allora, sborro, fronzo. Non iniziamo, eh. È proprio così che mi chiamano gli amici, dimmi. Allora io voglio queste per costruire il ponte. Sì? Quindi io sono il tuo castello. Ragazzi, facciamo... E ci metto mezz'ora. Primo progetto, facciamo un ponte che va da un lato all'altro delle mura tutti in alto. Vabbè. È fatto da un singolo blocco. È una cosa che non pensavo fosse possibile. Ma è me, non ho ascoltato. È me, noi abbiamo un piano per fare la casa. La nostra casa deve essere un ponte sul fiume. Un ponte tra i popoli. Io arrivo intanto al castello, ragazzi. Poi ci muoviamo insieme. A Nova ci ha fatto uno schema incredibile per authentication server are down. In che senso sono down? Fatemi capire. Perché non... Eh... Ric... In che senso sono down? In che senso sono down? Leonardo Bro! Dove siete? Cristo! Joining world. Cos'è? Perché ti seguo una fattina del cazzo? Sta esplodendo tutto. Oh, ti stanno seguendo una fattina di minchia. Ok, l'ho uccisa. Ciao, ragazzi. Chi? Vai, fattemi la razza in quello che sta... Ok, ce l'ho fatta rientrare. Bene. Ma sto cazzo di... Ma senti che troiaio, ma che succede? Dove state performando il gaming? Il gaming, viva sempre il gaming. Evviva! Il gaming. Ah, sta succedendo, ragazzi. Ok, comunque, dicevo... Eh... C'è un cannocchiale, ci serve qualcosa? Ma penso assolutamente no. Però sti cazzi... Andiamo giù. Oddio, quando... Oh! Fai fuori! Oh, c'è uno spawner! Sta fermo, sta fermo, sta fermo! C'è uno spawner qua, ragazzi! Non capisco di cosa, però. Via, via, via! Ma che sta succedendo? Senti, arrestami! Senti, arrestami! Aspettale! Moooo! Restmi! Ma che sta succedendo? Restmi, seppai! Senti! Ah, ho trovato... Ragazzi, ho trovato... Aspettate, ero più tranquillo! Ho trovato uno spawner di zombie! Guarda, guarda, emerald che performa il gaming! Guarda, emerald che performa il gaming! Guarda, emerald che performa il gaming! Si stava facendo il gaming, aspettate! Porca è, ma guarda che gaming! Non riesco a resi... Ah... Cristo, mi sei passato di fiato! Non funziona, lei! Non so! Sto andato, sto andato! Ah, che lag a bestia. Ciao! Sì, infatti, c'è un po' di lag! Ragazzi, scappa, scappa, scappa! Ho insieme un lagging! Aspettare un problema! Ragazzi, sembra il games week del 2018, aiuto! È proprio quello! Ma c'è un zombie zariato che mi insegue! Ma non è il games week e basta! La carota! Aia! Ok... Se non mi resti, non siamo più amici! Fermo, fermo! Perché tu... Sto muore! Siamo casa là giù! Perché ci faccio un salve? Basta che tieni premuto control vicino a me! Ah, ok! Io ho trovato lo spawner, comunque! Senti, il baby di boby di emiraz! Ricca! Se lo spaccavate, spawnano tipo i vex, una roba simile! Scusate, raga, ma... Che hai detto, Leo? Guarda la giusta per fare la casa! Ah, sì! Quel pisellino laggiù in acqua, o dici qua davanti? Sì, fatto qua davanti, qua! C'è tipo, faccia la casa qua sotto! E... Allora, non so se hai notato, ma Nova ha mandato un grafico dettagliato sul gruppo Telegram di dove possiamo fare la casa! Ah no, non l'ho visto il grafico dettagliato! E... Ho paura che non faccia parte quello! Ah, niente! Non siamo dentro il cerchio! Ah no, aspetta! Fammi vedere bene, fammi vedere bene! Non possiamo fare casa qua! Perché? Perché stiamo lontani? Perché sul Telegram c'è il cerchio della morte che bisogna guardare! Sì, ma non... Fa cacare un po' Siamo indietro! Ma secondo me ci siamo parecchio vicini al cerchio, eh! Sto cercando di capire... È che non sappia... Non so dove sono! Oh, coglione! Ma povero berro! Sì, stiamo piuttosto lontani dal cerchio, quindi dobbiamo tornare indietro! Cristo, Cristo, Cristo! Guarda, Cristo, Cristo! C'è un pirla! Sono io! Smettila! No, quello è la sega due gambe, non è un pirla! Sono la sega due gambe! La sega due gambe! No, non ti permettere di scattivare il mio nome! La sega due gambe, ragazzi! Esattamente come alle superiori! Un saluto alla sega due gambe! Stupido! Io continuo a lutare! La sega due gambe, ragazzi! Ma stiamo scherzando... Ah, fammi buttare intanto la roba, non serve un cazzo! Ma le stringhe tanto ne è pieno il mondo qua! Il copper non servirà mai a una sega! Ha due gambe! La flint ci può far comodo! Ok! La pislazio è che... Io non so se si trova queste cose, perché sappiate che... Nova ha fatto un casino, quindi non sappiamo... Cosa si trova e cosa no! Sono sotto! C'è una cesta incredibile qua sotto! Sotto dove, signor Fieri? La sento? Qua sotto dove sono io! Chiaramente! Ma non è pieno di stronzi anche? No! Ok, sono uscito! Eccomi, ora sono fuori! Non so dov'è, signor Berro! Un cortile strapieno di zona! Ah, eccoli qua, i gentili signori! Eccoli qua! Ma tanto non ce l'hanno con me, non importa! Ce l'ho prima! Qua sopra c'è uno stato, ragazzi! Sì! Mi ricorda qualcosa, sta cesta! Vengo a fare così! Don Berro lo vedo in difficoltà! Mi sa che è morto! Ok! Ok, li zoomiste... Ah, qua ce l'ho già guardato! Non so se ho lootato tutto, boh! Sì, i zombies! I zombies! Ok! Parkours! Parkours! No! Ok! Ok! Non so se è successo ma ha funzionato! No, lo scheletro è un po' tumace, ragazzi! Ok, iniziamo a sluggiare da qui, ho capito! Ho capito! Marcus! Sluggiamo! Dove sono andati tutti? Dove sono andati tutti gli altri, ragazzi? Grazie, Walter, per il sub! Royal Power! Dior Dente! Spider Head! Super Matthew! Grazie ai sub, ragazzi! Chiara! Lucatron! Molto gentili! Ok! Sono verso il centro! Andiamo a vedere! Eh, io non mi ricordo neanche dove è il centro, però questo è il problema! Ma io c'ho una bussola! Aha! Scappiamo dal village, è che quello è pericoloso! Avevo anche un caschetto! Capo! Non ce l'ho io, il caschetto! Ma mi ha rubato tutto ieri! Ma i vestiti! Ma quali vestiti? Non ho rubato niente! Ah, qua persone in dei pantaloni! Non sono miei! Allora, questa sarà il totem del... Ma quello mi ha rubato nel metto di chi era? No, ragazzi! Noi dovremmo costruire una base! Era nel metto dell'antiacqua! Noi dovremmo costruire una base, però! Facciamo una casa sopra... Una base! Facciamo un ponte sopra questa pozzanghera! Vai! Va bene! Mi piace come base, ragazzi! Maestro costruttore! Allora, qua faremo la nostra ditta dura, ok? Vai, va bene! Ditta dura? È perché una ditta la chiameremo dura, quindi ditta dura! Esatto! Ah, ok! Dura e su... Dura come il nostro pugno! Dura come il marmo! Io vado! Ciao belli! Se vuoi stampiamo anche i documenti sul marmo! Io ho trovato questo, comunque! Che ricchezza, signori! Ho trovato questo! Ho trovato questo! Ma siete ricchissimi voi! Ho visto quante cose ho fatto! I lapis! Ho trovato anche dei dischi! Incredibile! Vabbè! Siete veramente ricchissime, ragazzi! Questa sarà la nostra base, amici dei muratori! Che bella, la nostra base! Scusi, gentile vecchio, lei ha mai fatto il muratore? No! Nella sua vita? Vado e torno che c'è un po' di muto da sopra, eh! Non sei mai troppo vecchio per iniziare! Da oggi lei sarà il muratore della nostra dittadura! Va bene! Perfetto! Muriamoci! Perfetto! Non ho neanche voglia di vivere nel parlato, ragazzo! Ragazzo, mi sembra esagerato! Va bene! Allora, le basi! Cavolo! Puttiamo le basi di questa cosa! Bellissimi! Questa sarà... Questa è mia! Ah, non sono sedie, quindi... Ok! Bene! Abbiamo lavorato abbastanza, però... Non ho piccone! Sì, però non ti darei capito qua! Va bene così? A posto? Allora... Sì, però già abbiamo costruito abbastanza! Allora, aspettate le basi, ragazzi! Un attimo! Toc! Perfetto! Allora, facciamo una palla! Quindi, Leo vuole un piccone! Va bene! Leo, dove sei? Tieni! Questo è meglio! È più meglio questo! È più meglio! Usa quello! Ragazzi, se non ho capito, ma questa è un'industria e la casa! Questa è la nostra sede legale! Casa uso ufficio! Capito? Esatto! Se la tua industria è la tua casa, non andrai mai a casa dal lavoro e potrai lavorare di più! Esatto! Ah, come i cinesi! Come fanno i cinesi che lavorano... Il mindset! Ragazzi, qualcuno ha della cobblestone? Io molta poca! No! Ma sedia? Sedia ha acquittato! Dovevo accompagnarlo a fare la base, però ha acquittato, quindi... Vabbè! Farò finta che... Passami la cobblestone che ha e qua si condivide tutto! Ah, ma c'è la fornace! Esige il comunismo nel capitalismo! Ma stai giocando... Ma la cobblestone è importante? Vabbè, non importa, tanto me l'ha regalato! Cristo, va bene! Ragazzi, ma sto baghetto è pieno di pesci! È ora di pescare! Chiaramente! Ok, ciao! Ma non c'è tempo in miniera! Chiamiamo poldo! In mili notably sono già stato fatto una stack di ferro in tre secondi! Eh, io invece stavo laggando, dovrei vedere il modem due volte midlive! Ecco qua! Capito? Anch'io però, a me non fa il suono! Come fa a fare il suono? Si chiama soundboard! Eh, devi premere anche altf4! Altf4 mentre lo fai funziona! Sì! Aspetta, che provo! Prova? Ha funzionato! Ha funzionato, hai visto? Ma doch, quanti pesci! Ma ne sono spawnati tantissimo C'è uno spawn che è incredibile, raga Perfetto Ha funzionato, hai visto? È visto, è stato bellissimo E viva La figa A posto Marcus, eccolo qua Ragazzi avete un sacco di ferro Mi sa che andrò a miniera È un'ottima idea Allora Hai bisogno del set per andare in miniera Non mi sembri molto preparato ad andare in miniera Però io sono un businessman Allora fammi vedere cosa c'hai Solo uno? Sì Male, tieni un altro Oh grazie Mina tutto ciò che trovi Inizia la miniera qui proprio Sì, 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 va benissimo Faccio un buco Più vicino al lavoro così si lavora di più Gravo Faccio la miniera Cristo, Cristo Fai come in ex Yugoslavia Mina tutto quanto Perfetto Esatto Anche i Batkong lo sapevano fare Aspetta Per caso Faccio il minatore Che prende lo stesso stipendio di uno youtuber E quindi si lamenta Perché noi guadagniamo tanto Eeeh Beh però Prima di averlo fatto Almeno per 5 secondi Se no non vale Hai ragione Scusa Hai ragione Ok Ho un pretesto per andare in miniera Evviva Io non so cosa fare ragazzi In tutto ciò Il ponte per terapitia Vieni in miniera con me Se non hai niente da fare È un'ottima idea Eme Vuoi anche tu il setup O ce l'hai? Dai Fammi compagnia Se no poi Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Acqua di argilla Ed è perfetta Per i nostri scopi Quindi Prendo del legno Faccio una porta E sfrutto le leggi di minecraftiane Per piazzare la porta Qui E respirare sott'acqua Evviva Provate Sei una strega 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 Ma ho anche dei difetti Tic tu Tac tu Tic Madonna Quanta Ok Perfetto Ragazzi Con l'argilla Si fanno tante cose interessanti È perfetta per i muratori L'argilla Vediamo anche la ghiaia Importantissima I Benetton Sono tornati ragazzi Chiaramente tornati Benetton Beh se Si è presa una malattia Ok Scaviamo tutto ragazzi Grazie Grazie Emma per il sub Lei è molto gentile Grazie mille ragazzi Il supporto Ragazzi tutti quelli che sono abbonati Tutti quelli che seguono la live Spero vi state divertendo Ricordo che potete Supportare questo a Pandora Abbonandovi gratis Con Amazon Prime Su Twitch Pagando 3,99 Su entrambe le piattaforme Ok Risucchiamo tutto Perfetto Guarda Sto facendo un sacco di materiale per te Guarda La ragilla Azzersa Tutto Azzersa Fammi Ok Ok Allora ti insegno una cosa Che mi hanno Insegnato Quando ho fatto Acqua 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 Calcio e struzzo E Devi utilizzare La ghiaia La sabbia E un po' di acqua Mi raccomando E magari anche un legante Ah e ti fai la E ti fai poi la La cosa che lo bagna in automatico Eh Non lo so Io lo facevo con la palla Quando mi hanno mandato In alternanza scuola lavoro Eh non lo so Io ero musicale Non ho mai fatto queste cose Lo sono viste al cinema Ah che figata Vabbè Mi metto a scavare ancora Ecco qua Praticamente Anche due Con un'altra D'avventura di Gianni e Sergio Eh ma Gianni e Sergio Ma la domanda è Siamo nel cerchio Boh spero di sì Abbiamo controllato Prima di iniziare a costruire Di essere nel cerchio Fammi vedere se c'era La ghietta nel cerchio Fammi vedere se c'è la ghietta Nel cerchio Sì sì Siamo nel cerchio Ah sì ok Perfetto Perfetti perfetti Siamo nel cerchio ragazzi Possiamo edificare Abbiamo il permesso di costruire Molto bene Ah dove sono i materiali Qua Benissimo Ma la casa poi la facciamo A metà ponte Sì tipo Colonna gigante Tipo una roba del genere O Chi va Sotto terra Tipo a metà ponte Puoi scendere giù È interessante Tipo pozzo Eh esatto Alzo perché Se l'ago fosse più grande Sarebbe più bello Purtroppo A terraformare Sì Purtroppo Fa un po' cacare Il cerchio Che ci hanno dato Quindi Ci accontenteremo Grazie Dark boom Per il sub Allora Fammi vedere cos'altro c'è Music discs C'è un sacco di Dischi musicali Ma Sbaglio il tempo È frizzato C'è il sole Non si sta muovendo Di un millimetro No Penso dirò Penso che così Non c'è la notte Ha senso Che schifo la notte Non potremo mai fare Gli orologi Beh Guarda l'atto positivo Se è sempre giorno È sempre ora Di lavorare Eh Poi dove è il sole Sono bene o male L'8 di mattina Quindi si inizia Allora ragazzi Io scavo tantissimo Cristiano mi ha fatto Un cazzo tutto il tempo Non è vero Non è vero Non è vero Tocca licenziare qua Allora iniziamo Sto mentendo È vero Quanto decordiamo Di paga Cristo Direi almeno La metà E gli spaccherei Anche una gamba Sputiamogli addosso Tocca Spezzati una gamba Da solo Ecco qua Ok ok Come faccio a far finti Di rompermi la gamba Circa le botte con giusta Te la rompiamo Davvero Ecco fatto Oh la Gliel'ho rotta ragazzi Confermo Adesso muoio Ragazzi Vediamo se c'è la emot Sì le rotelle Ci sta un emot Dove sto per terra Tipo Fate il balletto Della griddi Sul mio cadavere Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Ma secondo me sta nascendo un po' troppo bello questo ponte, Leo. Bisogna fare una gru! Ma è appena iniziato? Ok, facciamo la gru di fianco. Ragazzi, visto? I vostri operai dormono sul lavoro. Ecco. Attenzione, è passato il geometra. Sputali! Sputate il geometra! Stupidi geometri. Schifoso! Geometra di merda! Che schifo. Incredibile. Dov'è che avrà studiato? Scusami, cosa fa il geometra poi? Cioè, non costruisce, non progetta, non fa niente. Gioca a geometri dash. Ma io in realtà gioco a Minecraft. Ah. Ma è un geometra? Assolutamente sì. E dove ha studiato? Geometra. Istituto tecnico geometri Pacinotti di Bologna. Ha per caso un libro enorme che può far vedere questa cosa? Cioè, intendi un diploma? No, il libro quello che tiravi fuori dove facevi vedere il del geometri che era grande enorme. Eh, ho capito, è in cantina. Ah, allora niente. Un giorno magari lo riprendo. Il manuale del geometra. Mi si butto? Vado? No, l'acqua no, l'acqua no. L'acqua no. Sputateli addosso. L'acqua no. Schifoso. Schifoso. Non prende danno, non è un vero gamer. Non sei un vero gamer, non sei un vero gamer. Non prendi danno. Non voglio lavare. Io gioco a Crash of Clans. Eh, guarda, 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 Cristo, guarda. Allora, io gioco a League of Legends. Confermo, confermo. È così che funziona. Ho capito, ho capito. Ma me l'avevano già raccontato, però non ho mai visto una dimostrazione pratica. Non ho mai visto un LOL player in tutta la sua vita. Io sto facendo... Perché vai dritto? Non li vedo perché non li ho in casa. Bisogna fare la curvatura, mi rovini il ponte. Facciamo un ponte circolare. Tipo un ponte che non esigui la... Non attraverso, ma attraverso. Ok, ho capito. È figa come idea. È figa come idea. È un po' come le mura. Capito? Allora lo facciamo che arriva fino qua e poi curva. È un'ottima idea, mi piace. Va bene. Tutto insetto. Non parlo di voi, ragazzi. Lo facciamo lungo 5M. Ragazzi, allora, è un'idea. Cristo. Mi dica. Vieni con me. Sei licenziato. Dopo. Dobbiamo andare in missione. La nostra missione è... Dobbiamo prendere... Il ponte non attraversa il coso. Fa solo il giro. Allora, dobbiamo prendere degli animali. Per fare il cibo. Uccidere degli animali? No, no. Catturarli. Ah, catturarli? Avevo un laccio una volta. È sparito. Facciamo uno zon. Prima che ci torni a casa, mi raccomando. X-Murri non è un animale. Non portarlo a casa. Ok, non lo farò. Non l'ho capito. Ma già si ha... Va bene. Va bene, ma è un LOL player. Ah, giusto, giusto. Andiamo a prendere le pecore. Oh no, mi gancho a Draven! Ok. Allora, il laccio è sparito, purtroppo. Ma non importa. Mi dite pecore! Una domanda, ma come le catturiamo? Ah, tu hai pieno! Bisogna fare un recinto! Presto, fare un recinto. Costruisco il recinto, in fretta! Presto! Ma ci abbiamo 50 tavoli da lavoro, là. Un attimo, fammi fare un sacco di stick. Oh, una l'abbiamo persa. E dai, vieni qua. Così, si fanno così. No, non si fanno così. Dove te vuoi vedere? E va bene, facciamo la scaletta o qualcosa con le alghe, poi vediamo. Va bene, va bene. Ho portato le pecore! Allora, facciamo un cerchio fatto bene. Cristo non è capace di fare una stazionata, ragazzi. Cerco il cerchio generator, arrivo. C'è che... Eh, perché... Allora, Rick, Rick, Rick. Eh. Abbiamo un progetto, capo. Facciamo il cerchio fatto bene. Sì. Con tipo quattro ingressi come questo. Ah, figo. E al centro facciamo un buco. Al centro facciamo un buco, con tipo una cascata, che tu vai giù e da lì entri a casa nostra. Cioè, tu ti devi buttare nel buco per arrivare a casa nostra. Esatto. Ok, è molto poco e comostro, ma ci sta. Poi dobbiamo imbruttirlo, dobbiamo fare... Sì, sì, dopo, sì, facciamo tipo una megacupola sopra. Perfetto. Si può fare qualcosa proprio di bello grande. Esatto, è un'ottima idea. Vai, Cristo, facci vedere. Allora, ho fatto 36 fence. Ok. Devo rompere tutto qua. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Ok. Vabbè, il cerchio è in realtà abbastanza easy. Adesso guardo... Vedo... Eh, perché non è proprio centro, centro. Eh, dovremmo scintare tutto. Eee... Allora, spostiamo anche questo. Ok. A posto. E le abbiamo catturate! Siamo bravissimi! Il centro del lago. Mamma mia! Siamo montiamo. Sì, si finiamo a smontare. Oh, merda, devo mettere... Oh, un bel letto viola. Bello. Ecco qua. Ok, ma non ne servono altre? Sono un po' poche. Adesso ci penso io. Eh, Cristo, io dobbiamo smontare! Devo smontare tutto qui. Si smonta tutto. Bisogna centrare. Madonna, ragazzi, neanche i geometri sapete fare. Si smonta tutto, si smonta tutto. Ah, perché stai smontando tutto? Perché lo mettiamo centrato, così abbiamo il cerchio fatto bene. Come per... Che non ci vedono molto bene questi ragazzi. Ok, ci sta, ci sta. Prendi materiali che io non posso toccare l'acqua. C'è altro ferro! Lo mettiamo subito qua. Oddio. Allora, per il centro. Allora... Eh... Usa un modpack per il centro, eh, me. Qua, 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 qua. Oh, questo qui. I stone brick. Non abbiamo più carbone! Usiamo quello come... Come centro? Esatto. Qualcun... No, no, non morire! No, vabbè. No, Leo! Vado a toccare l'acqua, porca puttana! Non devi toccare! Vado un attimo in miniera, cerco il carbone, ragazzi. Ma che cazzo? Ma che è sto schifo? Ma non ci sarà mai il carbone qua sotto! Ragazzi, ma te per i beats! Certo che più avanti li porterò. Però più avanti. Ora c'è Pandora. Ma c'è Adam Poletano dov'è? Ne so. Nuova stagione di Pandora. Novi personaggi. No! 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 Grazie, Davy Sengs per il sub. Troppo tempo senza LOL. No! Ma sta succedendo? L'illigo black! Ok, grazie, scusa. Ho rotto qualcosa. Vabbè. Come... Come ti risidi? Sono fortissimo! Vai, annega. Vai a nuotare! Ragazzi, non so come togliere sta cosa! Non so come so cliccato! Ragazzi, ragazzi, dobbiamo creargli una serie a rotelle. Porca braia! Dov'è Marcus? Lo so cliccato, bimbo! Ah, eccolo! Grande! Sì! Il migliore! Il migliore bro, Marcus! Ah, sì, te l'ho sdraiato! Allora, cosa... Cosa mi serve? Ah, ok! Siamo che c'ho una cetta rotta, scassata qua. Ok. E questo è il centro? Sei sicuro di me? Ah, fai un quadratto. Andiamo via. Facciamo svuotapalle. Perfetto. E via anche questo. Ok, Leo non può toccare l'acqua perché è un lolplayer, ragazzi. Hai ragione, prendo un metro. Vai, vai. Ah, serve un secchio. Ecco, lo cercavo. Fai un quadrato. Allora, facciamo un quadrato. Ok. Countero Leo! Non mi lavare! 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 Leo, si è lavato! È schifo! Via! Si è lavato, hai visto? Si è lavato! Cristo, vieni, dobbiamo... Abbiamo una missione a compiere. Un altro, un altro, un altro, 13 deve essere. Come si risponde i sussurri, ragazzi? Slash V, staccato nome. Mi ha dispreso, dobbiamo fare poi un cerchio. E poi staccato un salto. Quindi, c'è quanti altri due adesso che hai tolto quello? Aspetta che conto. I muratori. Ok, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere il carbone, non possiamo più cucinare la nostra argilla, preziosissimo. Io ho un po' di carbone, ne ho 27. Non basta, andiamo. Si è fatto, giusto? Bene. Allora si torna al lavoro. Allora. Non è questo che non l'abbiamo mai fatto. Ok, salto 360 e water bucket. Fallo tu. E io purtroppo non ho water bucket. Povero. Sei povero. Sono un po'. Sono appena entrato, infatti sono un barbone bullizzato. Penso che lo chiamerò così in questo video. Ok. Quanto carbone? Qua c'è qua sotto? Ma che cazzo? Andiamo a scoprire. Oh, ma che c'è qua? Cristo, vieni qua. Oh, oh, oh. Che è sta roba? Oh. Ma? Ah, ma è il laboratorio. Laboratorio di che? Eh, dove eravamo prima. Suppongo. Eh, io in realtà prima, ovvero all'inizio della live, dici? Eh. Certo. Io stavo laggando e ho dovuto riavere il mod e mi ha perso tutto, cioè. C'è la lore qua, mi sa. Cazzo, l'abbiamo scoperta. Abbiamo fatto una scoperta. L'ho scoperto un pezzo della lore. Dove siete? Sotto. Sotto, venite. Sotto di noi c'è un laboratorio. Il laboratorio, ragazzi. È lore. Dov'è? Qua sotto. Guarda, M, di qua. È lì. Il laboratorio. Ma? Il momento. Qualcuno che sta trombando. Ma noi stiamo letteralmente buildando la base sotto il... Ma noi vogliamo, scusa, noi vogliamo farla scendere qua, quindi. Ti pia... Dentro il laboratorio! Che nello spiega, mi no, ma... C'è il laboratorio sotto la nostra base? C'è il laboratorio sotto la nostra base, Leo. Bro! Andiamo. Eh, vabbè. Eh, vabbè. Andiamo, lo esploriamo, vai. Non posso, lo esploriamo, siamo usciti da lì. Esploriamo il laboratorio? Rubiamo il lutto da dentro. Ah, allora vai. Allora vai, Cristo. Oh, beh. Oh, ah, ah, ah. Che c'è qua? Che c'è? Chi è? Sono io, sono io, sono io. Ah, ciao, bello. Buongiorno. Che state combinando? Oh, Cristo santo. Mi metti l'acqua, M, per favore? Madonna. Me l'ho buttato giù l'oro. Questa è proprio la solidarietà di Pandora tipica. Vai, 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 scendete. Siamo sopra il laboratorio, ragazzi. Guardate qua. Un laboratorio. Oddio. Guarda il laboratorio. Prendi i blocchi che non sanno che abbiamo preso. Presto. Ci servono questi, Leo? Che nessuno lo dica. Eh, ma questi poi lo scoprono. Quanti lo scoprono. Rimettilo, rimettilo. 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 Non lo smacca. Non lo smacca. Bravo. A posto, a posto, a posto, a posto, risolto, risolto. Nessuno ha visto niente. Che posto fico. Davvero? È la nostra nuova base, di viaggio. Ma ci sono delle torci. Bellissimo. Ci avete messo un cazzo per buildarla, tra l'altro. Rupa, rupa, rupa. Dove trovare un punto dove entrare, ragazzi. Qua. C'è dell'oro. Guarda quanta roba che c'è. C'è. Quanto è bello questo laboratorio. Aspetta, esatto, passa lì. Ragazzi, venite, venite. Oh. Che posto è questo? Ma dove siamo finiti? Siamo sicuri se è il laboratorio? Forse non lo è. Ma forse è qualcosa in più. Forse abbiamo scoperto cose che dovevamo scoprire? Forse? No, ragazzi, so io come risolvere. So io come risolvere. Berro, ma dove ci hai portato? Dai, dove era Berro? Berro. Colpa di Berro. Ma di cazzo? Perché hai fatto questo? Berro. Questa necessità impellente di rompere il gioco a casa. Ci sta, ci sta, ce l'ho anche in Italia. Però potremmo non seguirmi, eh, voglio dire. Non è che tipo vi ho un po' poco stretti con la pistola. Propongo il kick. Pure. No, spesso, ti romperò bene. Vabbè, io comunque voglio semplicemente andare laggiù che c'è, come si dice, una miniera. Andiamo alla miniera, ragazzi. Esatto, noi serve la miniera perché ci sono carinti di carbone. Guarda quanto ferro c'è. Eh, direi proprio che dovremmo prenderlo. Perché non è un secchio d'acqua? È povero. Anzi, adesso che mi hai chiamato povero, mette la crafting table, che lo faccio. Non ho manco quello. Sì, sì, sì. Tieni. Perfetto. Ora ho un secchio. Prendete l'oro! È importantissimo. Ma non la mineshaft? È importantissimo l'oro. Prendetelo. È vero. Ragazzi, niente su Discord, tanto siamo noi. Sì, in effetti. Ok. Siamo di nuovo qua. Non so se Berro ha sentito di Discord. Non importa. Berro? Ok. Berro, siamo su Discord. Eccomi, eccomi, eccomi. Sono su Discord. Berro, siamo su Discord. Ok, credo di aver baggato. Oddio! Che c'è? Sai, stai calmo, respira, che c'è? Cosa vuoi? Un paguro? Un paguro, è un paguro, è un paguro, giuro. Un paguro, i paguri, i paguri, i paguri, i paguri. È un paguro. Impazzito. Eh, i paguri, io amo i paguri. Ragazzi, credo di stare camminando sul culo. Come si può smettere di farlo? Con la B, con le X. In che senso, Berro? Ci sta, ci sta il camminando. Adesso sto camminando ancora meno sul culo. Che ben, è nato, ragazzi, è un figlio di buttana. Noi ragazzi, è fortissimo. Una mamma buttana, questo. Ma che è il paguro? Il paguro è fortissimo. Il paguro. Qua, qua, qua. Attimo, che vi ho persi. Attimo, che vi ho persi. Dentro la mineshaft veloce. Arrivo. Controlls. Io sono qua con Cristo. Eh, Cristo, qua sotto, qua sotto. No, ragazzi, c'ho tre cuori. Dio Cristo. Ciao, sono io. Sì. Dove è il paguro? È qua sotto. Non serve pagare la rinzata. Sfego. Lapislazuli. Mi sa che è morto. Vabbè, rinzata. F per il paguro, soldato, valoroso. È morto qua. Ho trovato due blocchi di copper e un occhio di ragno qui. Penso che fosse del suo loot. Sì, 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 sì. F in chat per il paguro. Tutti quanti in tutte le chat esistenti. Vabbè, vanno muzziso i paguri. Cicciogamer si arrabbia... C'è il napoletano! Era voluto questa... Eh, certo. Capodanno. Ormai non manca molto, eh. Oh, questo è un paguro? Un altro paguro, ragazzi. Ragazzi, dobbiamo trovare tutti i diamanti che ci sono nel server, mi raccomando, eh. Così nessun altro potrà averli. Esatto, esatto. Ma è un paduro quello, altro che. Ragazzi, credo che lo deve rinitarsi in vista. Visto, vai verso quella roba lì, guarda. Quella roba lì. La roba rossa, guarda, che cos'ha? Ma cosa è questa tartaruga? Cosa? Picchiala, Leo. È un paguro. No, basta. Non so cosa sia. No vabbè, ma è la tartaruga per farmare i piedi in hostale. Cos'era? No. Cos'era quella roba? Bro, 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 bro. Ma sta succedendo lì? Cosa? Che succede? Cosa hai? Non è successo, non è successo. Ho visto cosa c'era, ho visto da lontano. C'era un coso osso e ha spugnato 18 cose. Un comunista? Sì. Eccomi. Ha detto che c'era un coso rosso. Sono una persona meno comunista che esista. No ragazzi, c'è la strega. La stra-a-ega? Aiuto. Sei una strega. No ragazzi, ci sono troppi comunisti che mi stanno inseguendo. Ti capisco, bro, sai quante volte mi capita a Bologna. Non toccate i diamanti se li vedete. Non riesco di immaginarmi. Vabbè, Ferrari è molto simile. C'è la strega, c'è la strega, c'è la strega, c'è la... Ah, oddio, c'è anche uno zombie. Ma mi ha tirato una merda addosso questa. Oh cazzo. Picchiala, picchiala, Leo. Metti le mani a coppeca. Ragazzi, ho trovato il vaso di Pandora. Sono morto, sono morto, sono morto, sono morto, sono morto, c'è uno scheletro. Scappa. Sto scappando, sto scappando, sto scappando. Picchia, che pipe che siete, ragazzi. Eh, mi ha tirato la strega al venino. Io ho mega paura di si può shottare Emerald, perché è proprio in mezzo ai coglioni. Sono scappato un po' troppo lontano, potrei avermi perso. Non è che più il cibo. Non è che più il cibo. Sono andato, sono morto. Addio. Dove cazzo sei che magari ti vengo a salvare, non so dove sei. Ragazzi, mi ha avvelenato malissimo. Ma in realtà sono... Vabbè, non succede nulla. In verità stai benissimo, solo che vuoi farci stare in ansia, perché sei scemo. Sono dietro di te, Berro. Infatti, scemo. Guarda in alto. Raga, lasciate i diamanti. Ah, se questo qua mi vuole, ok. Sto cercando i diamanti. Dove sei, to? No, pigliati una bistecca, cazzo. Em, sono troppo lontano, non so dove siete neanche. Em, pigliati... Dio caro. È vero, eh. Em, io però ti lancio delle bistecche. Vergogna, vergogna. È un minatore, è un minatore. È un minatroie, è un minatroie. È ucciso i cadavri di inizio venti. Ha ucciso di inizio venti. Cosa avete dato, gli scheletrini? Hai preso le bistecche, Em? No, aspetta, le prendo. Grazie, è gentilissimo. Prego, amore. Eh, sì, eh sì. Un po' esagerato, eh. Vabbè, cioè, è adulto, credo, il signor Em. Il paduro ho trovato! Il paduro? Stava dentro al vaso. Hai visto? L'ho ucciso. Ok. Ragazzi, non trovo diamanti, oh merda. Oh merda, quanti scheletri. Ma noi dovevamo fare un cerchio. Vabbè, ma aprimi i diamanti. Così quando log a lollo non c'è più niente. Esatto. Scemo. Ma no, Nova ha detto che non puoi diamanti, eh. Ha detto, non è sul full diamante, primo giorno, che è. Che è. Eh. Ma io infatti non so se sia proprio sensatissimissimo. Ma sì, ragazzi, non so se vuoi che sia, cioè. Tanto te la vedi te con Nova, poi. Cioè, non possiamo prendere i diamanti, non ho capito. No, perché i diamanti solo se vai subito nel nether, però. Dato che non abbiamo manco un letto, mettersi tipo fino al nether per andare a fiare qualunque cosa esista. Ma come abbiamo i letti, ne abbiamo rubati un sacco al castello. Ma infatti. Ragazzi, che sono i corno? Ma infatti. Ma in realtà sei di un creeper. Ma quindi no, ragazzi, non ho capito sta cosa, non posso prendere i diamanti, sì o no? Sì, sì, prendi. Ah, ok. Perché. Che cazzo è la corda? È per impiccarti. Esatto, sì. Ma non si va bene, niente. Ho trovato della robusta corda di canapa. Segui il consiglio. Io ho trovato uno spawner di qualcosa. Ho trovato 16 metri di robusta corda di canapa. E la madonna. Cazzo, non me la presti per una volta. Puoi fareci una... Cazzo, ma che cazzo stai dicendo? Ma io vi ho perso, vedo qua berro. Ma io stavo seguendo te. Ah, posso impiccarmci veramente? Ah, 13 metri di corda. Non male. Ragazzi, ho trovato uno spawner di... Non so... Ma cosa serve la corda? Ma te l'ha detto però tre volte, eh. Non stai attento, cazzo. Serve per arrampicarsi. Scusa, è perché berro non ti stavo dando corda. Ma ragazzi, che ti subba sul serio? Ci sono gli zombie lavici da me aiuto. Venite qua sotto. Mi si è sabbata poco fa la nonna di Totta. Fantastico. In serio? Eh sì, è stato l'ultimo sub. Che donna. Che cose meravigliose che sto sentendo. Finalmente ho trovato tipo una torcia, quindi riesco a vedere più o meno... Ragazzi, se scendete tantissimo nella caverna, ci sono gli zombie lavici. Arrivo, arrivo. Oh, merda. Mastino lavico. Mastino lavico. Non ho più resire. Mi sembra, soprattutto, che abbiano tantissima vita, sti. Niente, reazione, non trovo diamanti, veramente. Ah, scherzo, una berro. Ma sono l'emeraldo, come ti permetti? Ops. Scherzo, una berro. Sono morto. Ragazzi, ho trovato lo spawner del mondo, comunque. Sono morto perché sono stupido. Non ho avuto i riflessi di fare niente. Sono proprio niente. Sono morto. Perché riassume perfettamente quello che è successo. Non so perché. Sono proprio preso un leap un po' troppo... Non ho visto un gradino. Scherzo, una leo. Ci sta berro, anche mia nonna ogni tanto vuoi dire di... Forse ho ritrovato finalmente Rick. C'è qualcuno che riesce a essere dalle parti del... E anche io sono molto sotto. Non abbastanza sotto. Del laboratorio. Del laboratorio. Emerald è quello più vicino. Sono io. Cosa? 75, meno 20, meno 70. Sto strisciando perché è solo un blocco qua. Emerald, devi andare a salvare berro. Arrivo berro, mi ricordi di nuovo. Emerald, salva sborra. 7,56, meno 20, meno 70. È tipo sotto un buco. Cioè, sono crollato giù per il coso. È dentro un buco. Quindi se non ce la fai, non ce la fai. Non è farcela, capo, tranquillo. Vai, vai, vai. Corri, vai. Perro in un buco. 7,56, meno 20, meno 70. Corri, vai. È sotto un gigantesco saltino. Quindi se... Allora, facciamo così. Metto un po' di formaggio. 20 secondi. Oh, cazzo. No, bro. Non c'ho niente... Ah, c'ho l'acqua, però. È la corda. Grazie, G-Tram, per il sub. Arrivo berro. Alt gentile. 10 secondi. Grazie, G-Tram, grazie. 8, 7, 6, 5... Salva me la nostra. Salva me la nostra. Salva me la nostra. Addio. Addio berro. No. Addio berro. Cazzo. No. Merda. Merda. Devi farti respawnare. Sei morto nella big hardcore. Sborro fronzo è morto. Peccato. È morto sborro fronzo, sì. Adesso devo andare in culo ai lupi. Dove cazzo? Se ne vanno sempre migliori. Stavo per titolare, proprio. Lo so, lo so. Mi hai proprio messo le palle sopra la fronte e poi sono morto. Che bella sensazione. Mi stai uccidendo, mi stai uccidendo. Ho un cuore. Quindi chiacchi di voi al corn, tutto ciò? Leo, non posso curarti. Perché non va? Ok, ecco. Starà laggando. Io guarda ci provo a tornare a prendere la mia roba, però non so se è possibile perché non ho l'acqua. Leo, tutto è possibile se ci credi. Chiedimi di quei sogni. Ma non possiamo entrare a dentro. In seguito, obiettivi. Hashtag motivazione. Hashtag grind set. Hashtag... Ragazzi, ho paura. For you page. Allora, se è qui... Hashtag follow for follow. Ci sarà un motivo, no? Hashtag light for like. Sì, è un motivo che forse servirà dopo. E l'hanno lasciata qui, scusami. Schiacciacca per la Night Vision. Ragazzi, la mia chat se ne intende più di Pandora di me. Mi hanno preso Schiacciacca per la Night Vision. Perché l'hanno visto gli altri streamer, giustamente. Complimenti, Cristo. Sei un ottimo streamer, lasciatelo dire. Lo so, faccio veramente pena. Ma sapete che io non l'ho assolutamente scoperto adesso? Io tipo... Perché l'ha detto lui? Leo, puoi venire un attimo. Leo, puoi venire un secondo, Leo. No, tu vuoi andare da Nova? Non ci voglio andare nella Big Vanilla. Cristo, ce l'hai il secchio, quindi? Basta flammare le altre serie, cos'è? Ce l'hai il secchio? Con l'acqua. Sì, devo prendere l'acqua adesso. Facciamo uno scrittore a Nova? Tieni, te lo regalo io, così non stai a fare... Ma che gentile. Qualcuno ha voglia di prendere l'achievement coperto di nederite? Di merda, no. Ma io... Eh beh, vieni via. Sto cercando di andare qua. Sì, sì, sì. Ma dove siete nel laboratorio? Sì, eh, ma non vuole venire via. No, 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 arrivo, arrivo, sono venuto. Em è citato dal laboratorio. È venuto? Cazzo, anche io sono venuto. Lo capisco. Smetti di rompere il laboratorio. Em è bannato da Pandora. Addio, Emerald. Em è bannato da Pandora ufficiale. Ho sbagliato, Emerald. Ufficialmente bandito. Smetti di uccidermi con l'acqua. Ah, stai lavando Leo? L'ho fatto, non può toccarlo lui. No, no. Lavalo. Lavalo col fuoco. Aspetta, questa cosa la dico in un'altra situazione. Andiamo Leo, dobbiamo scappare in seguito, eh, vedi? Sì, tanto tu vuoi mettermi l'acqua. No, 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 no. Sti blocchi stiamo per costruire. Ragazzi, però, cioè, se non vi concentrate, non possiamo rubare tutti i diamanti della serie. Eh? Lo dite? Dopo, ragazzi, ci batteremo la testa. Questi possiamo prenderli, tanto non servono. Ok. Era la seconda regola di... Ma ti dico, allora, se era una cosa illegale questa qui, già ci stavano bloccando. È vero, confermo. Aspetta, secondo me è che vogliono tenere il dramma fuori dalle cose, quindi non... No, 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 no. È legale, è legale. Allora, c'erano le regole che ci aveva mandato Nova e c'era, tipo, che non si potevano prendere i blocchi del laboratorio. Ma questo non è il laboratorio. Ah, è intorno, quindi va bene. Non lo so io. Questo non è il laboratorio, quindi non vale come tale. Perché l'acqua fa male a Leo? Perché gioca a LOL, ragazzi. Perché gioca a LOL, ragazzi. Abbiamo già detto, comunque. State attenti. Ragazzi, attenti agli eventi delle live. È canonico. Cioè, queste qua li riprendiamo, cioè, non gli servono tanto. No, 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 non ci vanno nulla. No, quello vi servia, quello vi mette. Perché c'è uno zombie che corre? Ah, perché il Cristo vuole solo tenersi in forma. È uno zombie rumeno. Cristo, vieni su, vieni qua. Ti lascio l'acqua, vieni qua. Ok, ok. Faccio vedere una cosa che ho visto prima. Io prendo... Non fate le spie. No, mi sarà tolto il piccone. Non fate i miei marie. Guarda qua. Aspetta, la pisazza di serve. Eh, io non offro ne niente, Leo. Cristo, vai là. Eh, bro, è successo anche prima. Non commettere il saporu. Vai a toccarlo. È successo anche prima. Toccalo davanti a me. Lo farò per il co... Eh? Lo farò per il content. Eh? Vedi, Leo? Scappa, scappa, scappa! Aiuto! Vabbè, ma non sono nulla che ho fatto quello che è uscito prima. Eh, però questo non è venenato. Eh, non è uscito abbastanza liquido. E sarà per sempre pace. Sono molto contento. Aspetta, Leo, aspetta, aspetta, Leo. Leo, fermo, fermo. No, 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 no. Ci penso io. Guarda, Leo. Aspetta. Ah, se ammazzi sti zoom, poi hanno del loot strano. Sì, lo devo mettere sui doppi, curioso. Ma ci sono anche i jumpscare, ragazzi. Di nuovo? No, è perché c'era un coso bianco. Mi sono avvicinato. Ma ha droppato un diamante, lo zombie. Eh, beh, allora quello è legale, io direi. Cioè, nel senso... Uno zombie meno... Sì, sto cazzo. Non ho mai un diamante in meno per l'olio alla costa, ragazzi. Ottimo, ottimo. Cosa? Eri tristissimo. Hashtag lollo senza diamanti. Aspetta, aspettiamo, lasciatelo dire. Ok, aspetta. Vai. Vai, aspetta. Così. Poi com'era? Così. Emote. Cosa ti ci metto? C'è qualcosa che fluttua? La prima, il Cristo. Esatto. Come si chiama? Come si chiama? È Jesus, è la prima che trovi. È la prima? Sì. Ma perché devi fluttuare? Perché devi impersonificarsi in me. Direi che ti sei divertito abbastanza. Sarei solo un'imitazione. Volevo solo provare... Finché non fai i video su Discord, non sarai mai come me. Cosa stai dicendo? Ho fatto un ritrovo di aboclame su Discord. Oh, cavolo. Quanti pedofili c'erano? E io, polvo. Perché? Perché? Dio, cavolo. Vabbè, non c'è... Vabbè, Berron, la mia amica ha detto che la pedofilia è una cosa bella, però esistono. No, no, in effetti... Ho trovato un diamante! Vai, questo togliamo l'ollo. Lollo, perfetto. Eh, dobbiamo uscire di qua. E usciamo. Usciamo, usciamo, sì, dai. Oh, un... Un ragno mi ha dato la testa del creeper, è rara? No, poi ho trovato 50 di quelli di scheletro. Ah. Secondo me no. Cioè, normalmente lo sarebbe, ma... Chiaramente non mi questo mai. C'è l'acqua, Leo. Certamente hai ragione, Mercy. Non posso... Aspetta, Leo. Ci penso io, allora. Lanciami la lava. Cazzo io potrei usare la lava per andare... Ma sì. Potresti. Dentro il castello di prima. Andiamo, andiamo. Potresti ma non lo fai. Potresti. Leo! Leo! Che sono quelli da sotto? Guarda lì! Che sono i vuoi comprati? No, no, no. Sono, penso, peggio quelli. Io adoro Emerald perché tipo saranno 50 anni che gioca a sto gioco e si stupisce ancora come un bambino per delle cose standard. Che cazzo è sta roba? Ti vendono sigarette? Eh sì. Sono i tabacchini? Hanno aggiunto i tabacchini su Pandora? No, sono i rumeni. C'è un ferro! Mamma mia. No, non ne hai pagato i fazzoletti. Cos'è detto? C'è un ferro. Hanno aggiunto i tabacchini su Pandora. Ok, ok. Madonna. Raga, mi dite più o meno dove siete, che voglio vedere anche i tabacchini. Eh, sotto il laboratorio. Ah, ho capito. Che caso di gaming che ho fatto. Guarda, ci fosse stato la sedia qua mi avrebbe applaudito. Perro gaming. Pro, pro, pro. Sì, no, ti giuro. Dopo un'ora di live si gli scaricano le batterie e chiude. Ridagli il brazzaletto, ridagli il brazzaletto. Non era gratis. Fatta, fatta. Ma cosa non vi ho comprato? Non era gratis. Ragazzi, qua c'è la metro di Milano. Grazie, Cingerino. Grazie mille del sub, caro. Eh sì. Grazie mille, è carissimo del sub. Ragazzi, stazione centrale di Milano, uguale identico. Esci fuori e tirano fai la lama. Ma ci sono anche i disturperatori? Eh no, stiamo andando via. Ma sto stai dicendo cose random per tipo triggerarmi. Cazzo, benvenuti su Discord. Ok, di qua forse si può uscire. Cristo, dove sei? C'è un altro posto che spawnano gli zoni forti. Ehi, io ho allergie. Sto prendendo il ferro. Il berro? Eh, dobbiamo... Esatto, proprio quello. Ah, che figata sta cosa del cavallo che te lo chiami comunque. C'è un Maranza! C'è un Maranza che si prende con Leo. C'è un Maranza. Disse quindi improvvisamente Leo. C'è un Maranza. Ah, un altro Maranzino! Eh, fatto, fatto, fatto. Ah, c'è un'altra! C'è un'altra! Buttali giù, buttali giù, buttali giù. Ma che fai, Leo? Siamo a Portagenova, siamo a Portagenova, andiamocene! Ma no, Leo, ma urli più di me? Ce ne vuole! Quando hai in modalità anime, Leo, non lo ferma nessuno, te lo giuro. Scusate, ho mezzo cuore, eh. Cristo, vieni a prendere, mi sono perso. Non mi ricordo più di dove dovrà andare. Eh, anche io mi sono perso. Sto continuando a prendere del ferro che trovo. Mi sono perso, ragazzi! Seguiamo in acqua, Leo. Non voglio seguire l'acqua. Io ho perduto, io ho perduto! Cazzo, avevo anche lasciato delle fornaci. No, aspetta, devo trovare. Dottor, io sono alle fornaci. Eh, adesso, provo a tornare alle fornaci, dammi un attimo. Vabbè, io scappo con il luxo. Che sono sti vasetti? Prendi anche il mio. L'ho preso, l'ho preso. E ho fatto della riuscita. Ma perché è pieno di vasi? Ragazzi, eh... Ragazzi, mi date le coordinate di dove siete. Eh, la vostra base... La vostra base è... Mi sa che ti ho trovato, Rick. Ascoltami, la vostra base fuori è 725, 64, 0. Chat, scrivete. No, ma dico dove siete adesso, così... Eh, loro non so, ma se ti danno altri posti che non saranno un cazzo. No, io sono alla base, io. 725, 64, 0. Un chat mi fanno. Oggi ero andato da Milano per la scuola, ma forse la metro e non mi hanno derubato. Un applauso. Un applauso al nostro... Eroico. Ce li hai ancora tutti i reni? Sicuro di avere tutti i soldi? Le scarpe li hai ancora? Ok, a vero, possiamo ricominciare. State facendo il ponte? Io, ragazzi... Siamo appena venuti su in... Ok. Stiamo ancora picchiando i poveracci senza gambe, qua. Vuoi staccare? Vuoi staccare? Vuoi andare a dormire, eh? Io... È stanco. ...a sparare un pochettino, dir la verità. Ah. Sicuro. Mi muto un attimo, ragazzi, dopo. Cazzo, ma non è shift? Perché non c'è shift? Ma è control. Ah, vuoi andare su CS2? Qua sopra, Cristo. Guarda, ci siamo. Fantastico. Devi prendere quest'ultimo pezzo di ferro. Troppo la sborrata. Vieni. Aspetta. Raga, apri la bocca. Apri la bocca. Eccola. Sta arrivando. Sì, ma non ti vedo. Non ti vedo. È peribile, ragazzi. Guarda qua, quanto liquido che sta uscendo. Oh, io ho questo contenuto così puerile, boh. No, è veramente schifoso. Non l'ho mai visto in Pandora battute del genere. Risali dal liquido, vieni. Eh, è colpa mia, ragazzi. Sono meno family friendly qua. Guarda. Mi sa che non funziona molto bene questo liquido. Non vado su. Aspetta che te ne do altro. Io, no, no. Io non... Ti è arrivato? Oh, posso parlare da dentro. Sta scendendo. Sta scendendo. Sta scendendo. Oh, sì. Non blocchi, Leo. Ho preso, l'ho preso, l'ho preso. Bravo, bravo. Apri, apri. Ha funzionato. Ha funzionato. Oh. Guarda qua. Ok. Ciao. Ragazzuoli, io mi saluto. Buonanotte. Buonanotte. In realtà penso perché ho la torse che mi sta dando veramente fastidio. Il seme ti sta dando fastidio? Sì. Domani faccio il ponte. No, domani no. Domenico faccio il ponte. Va bene. Io domani voglio iniziarla a chiesa. Va bene. Buonanotte ragazzi. Buonanotte a chi va. Ciao, ciao. Buonanotte, buonanotte. Fate sogni d'oro. Sogni duro. E tutti gli sognatori nella mia live, ragazzi. Scura, noi siamo la ditta dura. È vero, è vero. E si fanno sogni duri. Esatto. Twitch.tv slash fieric per chi sta andando. Per chi sta chiudendo la live. Twitch.tv slash Chris Sparpo. Vai. Ma è casa nostra qui? Cioè, sui nostri... Ciao ragazzi. È cosa nostra. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. E niente, siamo rimasti solo i... Solo il 2. Ciao sborra! Buongiorno. Scusa, ma non è su Discord? Lo sei su Discord? Ma smutati! No, non mi ascolta. Vabbè, ok. Hai notato che è roba strana che è la terza persona con ste mod? La terza persona? La terza persona non è più, come si dice, prima la terza persona... Ok. Di solito... Tutti è vero però, guarda! Eh sì. Normalmente su Minecraft, anche se sei in terza persona, tu vai sempre dritto. Non me ne ero accorto, l'avevo fighissima ste cose. Sì. Bello, bello. Sono veramente sorpreso dallo sviluppo tecnologico che ha avuto Pandora Survival Minecraft Player. Perfetto. Allora... No, c'è quello Minecraft... No, smp, survival, minecraft... Boh, la cazzo. SMP è server multiplayer. Cazzo hai ragione, vabbè. Infatti, quando c'era Pandora 1, il poveriggio c'era letteralmente... Solo io lo chiamavo Pandora S.S.P. Server single player. E Nova si arrabbiava, ovviamente. Cosa che non capita mai. Stavi misgenderando Pandora. Eh sì. Esatto. Cazzo, non ho fornaci. Ah, devo... Noi serveva del carbone in tutto questo. Io l'ho messo in sta fornace qua, il carbone. E adesso ci mettiamo a cuocere il ferro. A posto, metto anche il mio, così mi sento collaborativo. Ok, mettiamole tutte insieme, ste fornaci del cazzo! Ok. Guarda qua. Ho finito, ho finito anche la cobblestone. Madonna, mandare in migliera è inutile. Ah, certo, se puoi non raccogliare le cose. Sì. Prendo un altro po' di cobblestone, vai. C'è davvero l'hollo su Pandora 4? Sì, ragazzi. Ci sarà. Ci sarà. Stasera no, perché... È un uomo molto occupato. Esatto. Ci sarà poldo? Sì, ci sarà anche poldo. C'è a te. Stasera no, perché è molto occupato. Stasera no, perché... Oh, perché si vede nero in live? Mi sta inquadrando, per caso? Ma io non capisco perché la cobblestone, tipo, non si stacca. Io ho 10 di cobblestone, poi 4, poi 15 e non si stacca tutta insieme. Non riesco a comprendere, ragazzi. Se c'è qualche bravo giocatore di Minecraft, ce lo spieghi? Poldo ha 40 di febbre. Sì, ragazzi. Beh, 40 adesso è un parolone. 39 e mezzo. Un po' meno, dai, un po' meno. Ok, allora, vediamo un po'... Sì. Marcus è diventato bellissimo. Guarda quanto è bello, Marcus. Mamma mia. Eh? Ma che cazzo di drip? Abbiamo drippato. Grande Marcus. Abbiamo drippato il cavallo. Marcus, come siamo belli. Drip cavalleresco, proprio. Come siamo belli. C'avevi la testa di Creeper? Eh, sì. Passamelo un attimo, che voglio provarla, perché la testa di iscritto ti fa vedere in bianco e nero. Voglio vedere questa cosa fa? No, no, no. Ti fa vedere... Cosa fai così, assurdo? Madonna, vedo un 8-bit, tipo. E vedo tutto verde. È abbastanza brutto, devo dire. Allora, è brutto, però ha un effetto particolare. Non è malissimo. Cioè, non è utile, ovviamente. Ti faccio notare una cosa. Che se vuoi, se tu premi... Marcus, però non entrare, non compenetrare. Se tu premi nell'inventario, di fianco al tuo scudo, o comunque lo slot dello scudo, c'è un pallino, no? Se ci clicchi, visibilità, ti apre tipo un altro piccolo menu. Scusa, io non vedo questo pallino. Ah, visibilità, ora sì. Ecco. E lì, per niente, ci puoi mettere altri pezzi di armatura, come per esempio... Io ci ho messo la testa di scheletro. Quindi posso vedere la doppia armatura, non ho capito. È puramente estetica quella. Cioè, tu hai l'armatura, che è quella lì classica di fan col tuo personaggio, e in quegli slot ci metti altra armatura che è puramente estetica. Quindi, tipo, io ci metto la testa di scheletro e non è parte della mia armatura, è solo estetica, capito? Io in realtà ho un elmo sotto. Ah, ok. Ora ho capito. Bello, bello. Così si può andare in giro con le teste dei mostri. Ok, allora adesso diventerò un creeper. Benissimo. Andiamo a spaventare le persone e facciamo... Ok, però io sarò un po' più lento che non ho il cavallo. Bisogna prenderlo qua. Eh sì, ma la sera dove l'hai trovata? Eh, non c'è... Oh, lo so. Eh, io... È perché mi hanno detto che stavo nello spawn dove... Vai, facciamogli paura. Oh! Oh! Ma sei pazzo? Oddio, ma... Ma che ne è? Siamo qua a spaventarle, ragazzi. Ma in realtà è uno scherzo. Capito? Ho capito, ho capito. Siete le macerada? No, no, vogliono avere a che fare con lui. Ah, hanno sentito il richiamo, brother. Hanno sentito il richiamo. Oddio! Eccolo, entra! Non è arrivato! Aspetta, aspetta, aspetta! Aspetta, aspetta, aspetta! Oh no, ragazzi, inchinatevi al mech. Oh! Inchinatevi al mech, per favore. Santo mech. Inchino, l'inchino. Santo mech. Avete avuto la visione? Un attimo, un attimo. Sì, sì, sì. Santo mech. Santo mech. Santo mech. Avete avuto la visione? Noi sappiamo che... Ma non lo sento, non sento il mech. Ci dia la visione. Non può entrare. Grazie, grazie. Non entra! Non entra! Non entra. Non può entrare. Ok, ho capito. Comunque, il mech mi ha ricondiviso una storia la settimana scorsa. Sì, perché ho fatto il trapezio, gli ha piaciuto, ha ricondiviso. Oddio! Una visione! Fermi! Una visione del mech! Che succede? Oddio! Oddio! Ma ce l'avete avuta un po' in ritardo, ragazzi? Ma io ce l'ho avuta subito. Oddio! Anch'io l'ho avuta subito, ragazzi. Anche tu? Ok. Quanti sono? L'ho avuta subito. La visione del mech! Quanti sono? Eh, vabbè. Meglio tardi che mai. Vero. Adesso andate via. Dobbiamo costruire. Non può entrare. Non può entrare. Ragazzi, ci sta dicendo che non può ancora, non potete ancora entrare, ragazzi. Non possiamo ancora entrare. Vabbè. Non può entrare. Ma non ora. No. Adesso ce ne andremo perché non possiamo. Quando potremo entrare, ragazzi? Quando sarà tutto finito, potrete entrare. Va bene. Oddio al mech è quando sarà il momento. Va bene. Il momento non entra. Marcus! Non entra. Non entra. Non entra. Ma devo riempirlo o no? No, non devi riempire qui. Ok. Qui deve essere solo tipo come se fosse una struttura... Non possiamo ancora entrare, chiaramente. Ma c'è già un P-Tech? Aspetta. Io stavo parlando su Discord. Ok, ok. Torna su Discord. Sì, sì. Non ce l'ho pensato. Ok, a posto. Benissimo. Niente, non... Parlo a posto. Oh, c'è una nuova persona. Facciamogli paura. Buuuu! Oddio, degli scheletri a cavallo. Cosa devo fare adesso? Buuu! Oddio, un creeper, ma non sta scoppiando. Che faccio? Eh, non sono arabo. Ragazzi, io non ci voglio più guardarmi. Vado da un'altra parte. Dobbiamo sovventare tutto il server adesso. Beh, effettivamente se tenesci con queste uscite fai molta paura. Se vuoi tornare da quelli del Mac e riproporgliela. Io ti lo dico, io sono molto ostile. Perché lei è ostile, signor Gianco? Non c'è una risposta a questa domanda. Sono ostile e basta. Vabbè, si becchi questo. Ah, ok. Ecco. Vabbè, lasciamo le sue ostilità, non si però. No, ma non sono ostile contro di voi. Ah, contro di chi? Boh. Dobbiamo fare le guerre tra clan come su Clash of Clans. Questo non è smussato. No, non questo, questo. L'ostilità non concepita. È già smussato qua. Ho capito. Ma questi qua stanno smussando da prima. E qua si alza di... Oh, facci smussare. Fateci smussare. Gianco, non hai avuto la visione del Mac. Vagli a chiedere la visione del Mac. Sì, l'ho avuto anche se sono stato benedetto. Meno male. Ah, perfetto, meglio. Perfetto. Sono stato benedetto pure io. Va bene, la benediciamo anche noi. Non so usare il cavallo. Vabbè, non ti preoccupare, è normale per tutti. Ma abbiamo la base di fianco... Sì, la base del Mac. È certo. Ma è attaccata, mamma mia. Perfetto. Ma così si comunica meglio, capito? E se ci dichiarano guerra? Risponderemo a dovere. Io ho Marcus dalla mia. Eccolo qui, grande Marcus. Esatto, effettivamente. Non possono fare nulla contro di noi. Finché c'è Marcus. Finché c'è Marcus non si può nulla. Vabbè, io direi ho messo tutto a cuoce. E devo fare un'altra svuotapalle. E sapere che da queste parti si fanno soltanto di svuotapalle. Svuotapalle? Come cassa si pirtano le... È come faresti una cesta. Poverissimo. Infatti. Beh. Però se è a missione, andare a prendere tanta legna. Facciamo una cosa. Intanto pianto degli alberelli. Che non so dove cazzo. Andiamo a rubare la legna di fianco a quelli del Mac. È vero, così dopo non avranno legno. È un'ottima idea. Eh, ma tu non puoi fischiare. Non hai il cavallo innamorato di te. Ti spiace. Eh, lo sto rubando a Eme, infatti. Eh, però non puoi comunque. Perché è suo per sempre. Ah, beh, almeno... Ma sicuro che non ci mandano via? No, no, figurati. Sono nudo. Ok, va bene. Ecco. C'abbiamo roba per fare una pala? Sento Janko. No, non ci abbiamo... Perché? È perché c'è un buco. Enorme. Ah, come si va bene su con questa tecnica. Infatti è bellissimo questo albero. A parte che ti erano un sacco di legna. Ce n'è tantissimo. Bravi, bravi. Levate la legna da lì, per favore. Sì, sì, ve la leviamo. È chiaramente per farvi un favore. Certo. Oh, il cavallo! Il cavallo non può entrare! Il cavallo è entrato. Il cavallo sta entrando! Non, Parcus! Non può uscire! Non può entrare! Allora... Non può fare niente! Ah, è fermo, è bloccato. È per quello. Sì. Ok. Ah, il problema è che l'altro cavallo non ha il proprietario, quindi... Vabbè, due fischi e si risolve. Come si fa a mettere il proprietario? Devi far sesso col cavallo. Devi fare come le donne, la cinghia e poi di nuovo la minghia. esatto. Oh! Sì, ma poi ogni volta più forte la cinghia. E ricordatevi, più la cinghia è dura, più è grande il cazzo di montura. Ah, sì! Vero, vero. Vero, la conoscevo anche così. Va bene. Vabbè. Ragazzi, noi rompiamo gli... Io ho finito l'accetta quasi. Noi vi rubiamo il legno di fianco a casa perché noi ce l'abbiamo. No, fate questi qua, per favore. Quelli più vicini al tempio. Prendete legno, piano piano, basta che non fate incassare Sultano. Non faremo incassare Sultano, tranquillo. Molto bene. Noi stiamo bravi. Grazie, trullo. Da sempre a stare attenti a quel che si dice in live. Comunque sto facendo live in contemporanea a tutti i youtuber, ragazzi. Sto facendo un esperimento. La prima volta. Gingerino, grazie ancora. Torniamoci a ringraziare. Bravissimo. Aia! Comunque questi alberi sono altissimi. Ci piacciono. Grossi, lunghi e marrone scuro. Ah, proprio come piace a me. Come piace a noi. Sex. Ok. Però mi servirebbe... Per ferro. Per ferro? Eh, serve il ferro per poi fare... Anche i... I cazzi sbrodolati nel culo. Vero. Vabbè, ho finito l'accetta. Questo lascerò così. Va bene. Signori, allora io... No, il cavallo non può entrare. Vieni qua, Marco. Il cavallo non può entrare. Lo so, lo so, signori. Non può entrare. Non può entrare. Quando potremo entrare, signori? Il cavallo non entrerà. Presto, ma adesso non si può entrare. Va bene, va bene. Allora vi ricordo comunque la regola delle tre C. Cioè? Cucina, cazzo e cazzotti. Bello questo, mi piace. Bello. Però non... domani con la mia ragazza. Mi è partito un altro... un altro trapezzo. Mi partiva. Ma come? Un momento trapezzo. Sì, adesso. Adesso. Aspetta. Aspetta. Potevo avere una visione. Aspetta. Potevo avere una visione. Te la mando io, la visione. Io non ce l'ho. Non può entrare. 360. Una visione del santo Mac. Il Mac. Il Mac. Vicino al Mac. Vicino al Mac. Magari ci dai che a me. Tutti vicino al Mac. La sua visione con volume più alto stavolta. Grazie a me. L'ho avuta io prima. Mac, ti brevo. Mac. Ti faccio entrare. Non entra la visione. Non entra. Non entra. Solo a me è entrata. Sono a te. Oddio, sta entrando a lui. La visione. La visione ufficiale. Sta entrando. Guarda il trapeggio. Il trapeggio. Mossalo, mossalo. Entra. Entra. Guardate. Oddio. Non entra. Non entra. Oddio. Non entra. Oddio. Oddio. Il trapezio. Guarda il suo trapezio. Mi sta facendo a sue immagini di somiglianza. Fortissimo. Non può entrare. Oddio. Eccolo. Non può entrare. Eccolo. La visione del Mac. Io non la vedo la visione del Mac. Oddio. Eccolo. Ecco. Non lo vedo. Dov'è? Guardate il sotticipite prima. Lo vedo. Non entra. Guarda che trapezio. È in diretta. Oddio. Oddio. La visione del suo trapezio. Non entra Mac. Mamma mia. Non entra. Ragazzi. Nello schermo non mi ci scavi. Giuro. Ragazzi. Mi devo allontanare. Spè. No ragazzi. Non entra. Porca droga. Non entra proprio. Ma licenziate il videomaker. Deve fare i video in orizzontale per il Mac. Esatto. Non si vede neanche due specie dietro. Ci vuole almeno un grand'angolo. Ci vuole almeno un grand'angolo per il Mac. C'è l'emote del cigno bello tirato allenato? Eh purtroppo penso di no. Dovrebbero farla l'emote. Che provano ad entrare. Devono fare l'emote globale di Twitch con il Mac. Col trapezio. Non c'è purtroppo ragazzi. Il Mac ha bisogno. Vabbè torniamo nella nostra base. Un saluto al Mac. Mi raccomando ragazzi. Un saluto di nuovo. Cucina cazzo e cazzotti. Ricordatevelo sempre. No ma scusa ma perché questo qua l'avete alzato alla stessa... No è vero è sbagliato. Che avventuralistica. Entra. Oh. Entra. Che cos'è? Ma si dite che cosa è? Oddio. Entra col tiro esercizio. Il Mac. È la sacra preghiera. È la sacra preghiera. Oh. Fregate. Fregate per il Mac. Appoggia il Mac. Appoggia il Mac. L'appoggio. L'appoggio subito. Appoggia il Mac. È storto. Non penso proprio. Non il Mac è storto. Sexy dance. No guarda il cielo. È giusto. Non penso proprio. Non pensa il Mac. Non pensa proprio. Eccolo. Il disco del Mac. Mi sa che è questo. Oddio. Oddio sta volando ragazzi. Oddio sta volando. Oddio. 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 Preparate il secchio d'acqua Preparate il secchio d'acqua Nemmeno io, non fa niente, il Beck mi proteggerà Aia No, ho fatto il test Non puoi entrare Grazie, non penso proprio E' un'avventura particolare Ma come fai a volare? E' perché io sono Cristo Ma quello vero? E' quello viola E' Cristo quello viola E quindi io ho questo permesso Ti prego, fammi quel trick Quale è che abbiamo sbagliato, Tano? Adesso ti faccio il trick, guarda Ma è già all'interno? Non ho visto davanti, non ho visto davanti Hai visto? Non è una bugia Cioè, non è un po' l'interno Cioè, nel senso, hai capito, no? Aspetta Entra Sono il cavallo Piacere ragazzi È potere mio, anche questo si posso fare Sono il cavallo Sono in cavalli Cristo cavallo Sono il Gesù cavallo Piacere a tutti Cristo Sono proprio io ragazzi Padrone cosa dobbiamo fare Vediamo Tano, Tano è pazzo Tano, ma tutto è il maggiungi? Vado a camminare sopra l'acqua Sono magico Oh Christ Sono magico Ma come andavi in geometria da scuola? Anzi Come andavi in geometria da scuola? Ma che cazzo di lingua è? Ma che ne so Lui ha detto geometria è infatti Ma che ti ha letto? Che ti dà problema Che non capisci? Diabolo morto? Ehi, 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 ehi Non capisci lo dialetto? Non capisci lo dialetto? Non capisci lo dialetto? Non capisci lo dialetto? Culo E per senso? Non mi basta avere i terremoti Non mi fatti condividere la stessa area Oh, sta entrando Sta entrando Come? No, non è possibile Io ho visto Questo ragazzo è entrato No, no Ragazzi siete entrato No, non è vero Non è vero Non si può entrare Non si può entrare Non può entrare Eh no Stai valessamente non ti Non può entrare Cristo cavallo Lei è un ladro Vic Signora Vic Provi a entrare Era il Cristo cavallo Non Cristo virgola Non ci credo Non ci credo Adesso ha più senso Io non ci credo se non vedo La signora Vic è entrata Entrata Non puoi entrare Non puoi entrare Non puoi entrare Sta entrando Ma è una strega Io non posso entrare Guardate Eretica L'avevo detto Le donne sono streghe A morte le streghe Avete fatto piangere L'unica ragazza Ah non stava ridendo Ma non è una ragazza No Non può entrare Ma adesso ho salito E allora non va bene Eresia via Le donne dal tempio Ma è stupendo Vediamo un po' Non puoi entrare C'è il geometra C'è il geometra ragazzi Non colpitemi per favore Secondo me Questa struttura è stabile Cosa siete riusciti a fare Ci dica tutto Il professore è entrato Vediamo Mi piace Ma scusate Ma io sto vedendo il Mac Perché sto vedendo il Mac Sto attento però Che non puoi entrare Perché hai fame Bra ma io ho il Mac full screen Per forza Perché non puoi entrare Stai avendo la visione Ragazzi è normale Che se state Ragazzi è normale Che se state nel tempio Vicino al tempio Avete le visioni Ragazzi del Sacro Mech È normale Ma perché il cavallo Non potete È normale Ora ho avuto la visione Ma che ne so Non posso Non posso Vedi ti sposto indietro Io sono il cavallo Questa è casa tua Non potete entrare Levate questo cavallo Non potete entrare Non mi fa entrare Non entra Dobbiamo stare fuori Non entra Levate questo cavallo Non si Non può entrare Non posso entrare Non può entrare Non può nessuno Non posso entrare No Fuori Fami entrare Mac Cos'ha detto Victor Gioe Ma questa è casa tua Lei ha detto no Per fortuna Sto entrando No Non si Non può entrare Non può entrare Fammi entrare Mac No 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 Victor Gioe Fammi entrare No no Il cavallo Il cavallo Non farà entrare Nessuno Me l'ha ordinato Il Mac Capito che cazzo Apri la bocca Oh buonissimo Oh buonissimo Oddio Oh E questo Quello La venuta del signore La venuta del signore Chi è che osa Fa la venuta del signore Al cavallo Oh ma dobbiamo prendere Altra terra qui Che c'è il tempio Il tempio non si costruisce Da solo Come ti permetti Ecco Tantissima Non posso più entrare Ora non puoi entrare Il Mac me l'ha ordinato Non puoi entrare Hai della terra Per il tempio del Mac No però c'è un po' di lega Oddio C'è una torta qua Non può Non può C'è la visione del Mac Che fortuna Che fortuna Non può entrare Non penso proprio Ma prima o meno Ho chiesto se poteva entrare Ho vista tutta Non potete entrare ragazzi Non potete Il Mac ha detto Non potete Io devo costruire il tempio Sono solo un prescelto Mi faccia passare Ci serve terra Ci serve Non abbiamo No mi faccia passare Lei ha fatto resia Signorina Neletica Neletica L'eretica Tu puoi entrare L'eretica L'eretica Sono entrato Sì sì L'eretica Oh è entrato Sei l'eretica Sì cazzo Che gioco Ammette Stai ammettendo Di essere l'eretica Puoi ripetere di nuovo Si cazzo Stai Fermi fermi Stai Stai negando L'onnipotenza Del grandissimo Mac No 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 Assolutamente Stai negando Il culto Del grande trapezzo Che non Può entrare Non entro Non entra Ok Non entra Non entra È stata perdonata Il Mac è buono Il Mac perdona Sei stata perdonata Dal grande Mac Grazie Ride Cristo Grazie Chiaro È niente È ascesa È ascesa ragazzi Che culo Che dici Beh Il cavallo se ne va Ora Potete entrare Non ci sono riuscite C'era il buco Si può entrare quindi Si è espresso No Il cavallo Il cavallo ha detto Che si può Potete entrare Sì sì Allora si entra Entri Potete entrare Potete entrare Aspetta aspetta Fermo 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 Vuoi cavalcarmi Mac Guardalo Puoi entrare Non necavalcarti Eh Non posso Posso solo accarezzarti Vabbè Aspetta Fa ancora un po' Su gesto Scusa Alla lunga Mi ha eccitato un pochino Ah ok Eh sì 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 Grande cavallo Oh ma ci sono degli uccelli Ragazzi ma ci sono degli uccelli Venite Allontanati Allontanati ancora un po' Entra Ancora un po' Ancora un po' Ancora un po' Ancora un po' Vai ancora Ancora Devi andare parecchio in là Lo vedo E questa è la prima lei di Pandora L'ho visto ragazzi E questa è la prima lei di Pandora Non puoi entrare Non puoi Non puoi Non puoi Non puoi entrare Non puoi Non dobbiamo costruire Se no il me che ci uccide Non puo Non ho più Non ho più Terra Hai terra Grazie La ingorgo 15 di terra Buono Va bene lo stesso Ragazzi ma in realtà Non sono un cavallo Sono sempre stato io Chi sei? Tagliati la maschera Uomo teschio Oddio È freddo Oddio ma è lindo Boom Guardate ragazzi Faccio una cosa Seguitemi Tranquilli che non entriamo Quasi però Passiamo da qua Importante non entrare Quasi quasi Perché deve stare a punta Guardate Uccelli e sputo Sempre insieme Mi raccomando Belli umidi Mi raccomando E qui ci devi Bravo Fai non volano più Sono tipo delle biglie Ok E poi dobbiamo fare un altro Eh non penso Sono così forti È rientrato Ti senti che era Era entrato Era entrato Era entrato Era entrato L'uccello è entrato L'uccello è entrato C'è un uccello dentro L'uccello è entrato L'uccello è entrato Mac faccia qua Sputato Ma sì senza chiedere Andiamo No glielo chiediamo in prestito Va bene ma per una pala dai L'uccello è entrato Chi è ricco? È ricco Pasquale Ecco qua È entrato l'uccello Ok E quello non è buono O un altro Ma scusate Signori ma stanno entrando gli uccelli Nel tempio del Mac Ma fate qualcosa Ma loro possono entrare Come possono entrare? È certo che possono entrare Basta essere un uccello quindi per entrare Certo Eh sì perché loro piacciono gli uccelli Guardalo Uccelli e sputi sempre insieme Sì però magari se non mi viene addosso Ecco fatto Ecco appunto hai visto? Ti è venuto addosso Mi è venuto effettivamente addosso Vabbè allora io saluterò facendo questo Bellissimo Bellissimo Bene Aspettavo Marcus andiamo Mi sa che sei bloccato È bloccato dall'albero Marcus andiamo Marcus andiamo Marcus Madonna che bordello Marcus 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 perché Marcus Marcus Oh e ti sei mafera Su che minghi degli dell'Olimpo Ok Bene Arrivederci ragazzi Arrivederci Ho una costruzione del tempo il Mac Passerò la prossima volta a vedere Come proseguire Passerò la prossima volta a vedere Dove è Gianco? Ok ragazzi Grazie Scout Scoutemberg Azzelsa Non è entrato ragazzi Non è assolutamente entrato Molto bene Ok Direi che ci siamo Suo tapare Le palle sono svuotate Di avanti Sicurezza Si sa mai Mi giorni un po' di avvoltoi Ok Ok Siamo sopravvissuti E' la prima live di Pandora ragazzi Siamo sopravvissuti Molto bene Spero di stati divertiti Allora Grazie vero a tutti quelli che hanno seguito la live Grazie a tutti quelli che sono abbonati Grazie a tutti quelli che hanno partecipato Ci becchiamo in live domani Non penso con Pandora Non so Vediamo con cosa Dai Questa era tutta l'ora Assolutamente si Spero di stati divertiti Aspettate faccio un raid a qualcuno Tiriamo un raid per instaccare Vi ricordo che se volete come al solito Supportare questa bellissima live Questa bellissima serie di Pandora Potete abbonarvi gratis Con Amazon Premium Pagando 3,99 3,99 su tutti i social Il premio è gratis solo su Twitch Facciamo un raid al mollo Così vedete la costruzione del tempio Del Mac Ciao ragazzi Buonanotte a tutti Ci becchiamo domani in live Sium Ok Ciao belli Ciao becchiamo domani in live 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 Ciao becchiamo domani in live